buongiorno a tutti con questa iniziativa con questo evento si inaugura una nuova forma di scusate si inaugurano una nuova forma all'interno delle manifestazioni del fiorenzo film per frenzo sera film festival una nuova forma che appunto la forma convegno intorno a un tema al tema prescelto per questa edizione come elemento orientativo non mi dilungherò in preamboli e cercherò anche per la consistenza dei relatori di passare subito ai saluti istituzionali non vedo in sala il diciamo il nostro colui che ci accoglie il dottor stefano visconti per cui cederei la parola al al presidente dell'istituzione che promuove questo convegno e questa manifestazione il dottor alberto jannuzzelli prego grazie a tutti benvenuti e soprattutto grazie a chi ha voluto e ha fatto questa questa manifestazione io incidentalmente sono qui a sassare ne ho approfittato immediatamente per essere presente e ogni volta che arrivo ogni volta che vedo l'operato dei nostri collaboratori scopro sempre qualcosa di nuovo io sono un appassionato di ferenzo serra piuttosto che di simon mossa e ogni volta scopro che delle facce nuove dei momenti nuovi un qualcosa di nuovo oggi scopre oggi scopro ieri ho scoperto quando ho visto il tema di questo convegno ho scoperto l'impegno l'impegno legato all'acqua che non ipotizzavo neanche io lo conoscevo come un antropologo visuale legato alla terra invece lo lo vedo sotto tutta da quest'altro quest'altro aspetto quindi mi godrò mi godrò quel quello che direte e devo però ringraziare i collaboratori della società umanitaria i centri di servizi di di cagliari di cagliari di carbonia di alghero e di sassari che rinverdiscono ogni ogni anno non perdono occasione per rinverdire la memoria storica la memoria storica della sardegna e evidenziarla e portarla portarla al grande pubblico perché solo attraverso questo solo riscoprendo le nostre radici molto probabilmente potremmo guardare un futuro in un momento in un modo migliore grazie e buon lavoro a tutti grazie presidente ora la scaletta degli interventi istituzionali dei saluti prevede il l'intervento del presidente della cineteca sarda antonello zanda prego grazie grazie a voi tutti puntualizzo su un direttore non presidente tanto per essere così precisi no un ringraziamento io mi associo ai saluti del dottor alberto jenuzelli che ha sottolineato l'impegno dei nostri centri in questo lavoro io aggiungo a quanto ho detto oltre a ringraziare ovviamente le istituzioni che ogni anno collabora con la società umanitaria per la realizzazione di questo importante festival quindi la camera di commercio l'università di sasso insomma sono veramente tante le istituzioni che come tradizione dell'umanità riusciamo a coinvolgere in un evento collettivo volevo sottolineare il fatto che la cineteca sarda c'è questo progetto che abbiamo iniziato negli anni sessanta dentro la società umanitaria per ricostruire e io direi anche costruire la memoria storica audiovisiva della sardegna parte alla sua colonna vertebrale nella figura di fiorenzo serra perché fiorenzo serra è stato il centro intorno cui e noi sostanzialmente abbiamo elaborato tutto il lavoro di ricerca è stato il primo autore su cui noi abbiamo investito e abbiamo lavorato per poterne restituire la figura ma in realtà poi restituendo la figura di fiorenzo serra non facciamo altro che aprire la finestra e far entrare dentro la storia della sardegna e tutti coloro che sostanzialmente hanno lavorato e hanno collaborato nella costruzione di questa enciclopedia audiovisiva della sardegna ecco la cineteca sarda da che ha iniziato a lavorare intorno all'audiovisivo ha visto in fiorenzo serra una figura centrale ed è questa una ragione per cui noi a sassari appena è stato possibile abbiamo appena abbiamo costruito il laboratorio di antropologia visuale abbiamo pensato che la cosa migliore per poter rinnovare no l'importanza sottolineare l'importanza del lavoro di fiorenzo serra e sottolineare anche la prospettiva di di fiorenza fosse quello di realizzare un evento annuale che ci desse l'opportunità ogni anno di monitorare il nostro lavoro il nostro lavoro di ricerca e di promozione della cultura cinematografica e della cultura della formazione dell'educazione che è centrale nel lavoro della società umanitaria quindi io ringrazio tutti non mi dilungo proprio perché ci sono molti relatori e credo che sia molto più interessante importante sentire l'approfondimento fatto da loro e che ci aiuteranno in questo lavoro appunto di ricerca continuo intorno al lavoro di fiorenzo volevo l'ultima sottolineata ringraziare ovviamente anche gli eredi di antonio simon mossa perché insieme a fiorenzo serra noi abbiamo costruito una sorta di parterre intellettuale culturale di cui antonio simon mossa sostanzialmente fa parte fa parte integrale ed è per questo che dentro il fiorenzo fiorenzo serra film festival fin dall'inizio noi abbiamo voluto affiancare un riconoscimento particolare periodico annuale anche alla figura di antonio simon mossa grazie grazie antonello è previsto il intervento introduttivo di saluto di simonetta serra della famiglia serra figlia di fiorenzo prego grazie grazie innanzitutto voglio soprattutto ringraziare sia la laboratorio di antropologia visuale con tutte le persone che si sono spese e la società umanitaria che insieme al laboratorio di antropologia permette rinnovarsi di questa di questo evento di questa cosa speciale che il ripetersi del del festival dedicato a mio padre mi è stato chiesto di dire due parole prima che parlino gli specialisti diciamo che sapranno illustrare i vari aspetti da un punto di vista tecnico e intellettuale della figura di mio padre ma mi è stato chiesto di dire di spendere due parole sul sul fiorenzo serra privato su quello che è stato averlo come come genitore quando mi è stato detto che questa cosa era nasceva anche dalla celebrazione dei cent'anni della sua nascita ho cominciato a pensare a cosa significano per me privatamente pensare che cent'anni fa mio padre nasceva ricordata di qualcosa che mi era stato detto dalla mia nonna vittorina la mamma di di fiorenzo io ho passato e l'ho scritto forse da qualche parte buona parte della mia infanzia e della e dell'adolescenza nel tormentare le mie nonne che peraltro si prestavano abbastanza essendo delle persone molto portate alla narrazione nella richiesta di storie che hanno poi costituito un po' tutta l'area della della memoria personale della mia famiglia un racconto in particolare della nonna vittorina riguardava non è così importante abbastanza secondario ma mi è venuto in mente adesso che parliamo di cent'anni che riguardava proprio la nascita di questo suo secondo figlio la nonna si trovava insieme al marito che lavorava in quel periodo a porto torres questo il motivo per cui mio padre nacque a porto torres nell'imminenza un po' del del parto era molto preoccupata perché il precedente parto quello che dede origine al mio zio nando era stato terribile le raccontava o giorni di travaglio aveva creduto di morire eccetera quindi era preoccupata che questo anche questo secondo parto fosse altrettanto disagiato e difficile ma rivolgendosi a una sua vicina nei racconti delle nonne le vicine sagge si sprecano seguì il consiglio che questa signora gli diede cioè camminare a piedi sino a recarsi alla spiaggia non so lei mi ricordava il nome marinella non so bene fare il bagno era settembre quindi probabilmente ancora questo era possibile rientrare a casa a piedi e questo la nonna fece e la sera stessa si mise in travaglio e fu un parto assolutamente tranquillo sereno che come dire e se in qualche modo ecco il mio pensiero è questo se in qualche modo il modo di venire al mondo è prefigurazione un pochino del carattere di chi viene al mondo e come ex neonatologa e come pediatra attuale tendo un pochino a crederlo effettivamente questa nascita benigna di mio padre in qualche modo prefigura anche la sua la sua il suo carattere carattere che ritorna quasi nello stesso modo in una poesia che lui scrisse ovviamente alcuni anni più tardi ma quando era ancora molto giovane la poesia recita più o meno così non che io rida in disprezzo in me c'è il buono saggio amore della vita in questo mondo di altrui fatti e pensieri ospite sono e la cheta eronia è la mia presenza c'è tutto mio padre in questo c'è la bontà c'è la saggezza c'è la infinita curiosità per la vita ma non la curiosità di chi vuole possederla ma la curiosità di chi si sente ospite e io credo che questo sia lo sguardo dell'antropologo la capacità di sentirsi ospite e potere quindi osservare e studiare con estrema cautela con estremo rispetto e effettivamente in questo senso io vedo già un pochino la prefigurazione e poi c'è la cheta eronia ma questa forse ritornerà anche ora un po' più avanti sempre a proposito dei 100 anni mi è capitato qualche mese fa di incontrare il figlio di un altro uomo illustre il suo purtroppo morto molto prematuramente che di mio padre fu grande amico e che con mio padre collaborò nella stesura dell'ultimo pugno di terra erano dai tempi del liceo quindi non dico quanti anni ma tantissimi anni che io non vedevo questa persona ci siamo ritrovati abbiamo fatto due chiacchiere e nel salutarci lui mi disse abbiamo avuto dei padri ingombranti ovviamente lo diceva in senso positivo però è una cosa su cui ho provato a riflettere quanto è stato ingombrante avere Fiorenzo Serra come padre allora io credo che oggettivamente fosse ingombrante perché noi non saremmo qui a parlarne se non lo fosse stato ma soggettivamente com'è stato per me allora è stato ingombrante io ho ripercorso alcuni episodi forse in qualche altro momento ho parlato che costituiscono un pochino dei punti della mia vita con lui per esempio il fatto che quando ero bambina ma proprio bambina piccola ancora all'elementare io mi intrufolassi nel suo grande studio quando lui lavorava con quelli che io chiamavo i suoi amici lo studio era pervaso dal fumo allora non era così demonizzato come adesso sentivo parole anche complicate parole che forse chissà se capivo del tutto improvviserizzate, discussioni però io stavo lì e nessuno mi ha mai mandato via mio padre mi guardava benignamente e gli amici di mio padre mi accettavano senza mai avere detto sei una bambina vai fuori eccetera ma anzi ogni tanto mi si rivolgevano non nella modalità con cui di solito ci si rivolge ai bambini ma chiedendo il mio parere su quello sugli argomenti che loro discutevano ovviamente io non credo di avere mai dato nessuna risposta però era il segno di questa benevolenza che io sentivo intorno a me solo più tardi ho capito che questi amici così strani e così particolari erano in realtà le menti più brillanti di quel periodo e persone che avevano fatto che hanno fatto delle riflessioni importantissime sulla Sardegna per esempio insomma allora però non ero non ero ancora consapevole un altro ricordo è sempre era ingombrante mio padre quando viaggiavamo insieme e prima di partire e durante il viaggio studiava minutamente tutto quello che avremmo visto e ci contagiava nella sua enorme interesse e curiosità mettendo sullo stesso piano tutti gli aspetti cioè da quelli architettonici a quelli culturali a quelli puramente culinari cioè lui era capace di parlare di un buon cibo etnico magari utilizzando la profondità e la serietà che si sarebbe riservata a una poesia a un immortale e parlare di una poesia immortale conferendogli il sapore il gusto di un buon vino o di un buon cibo fu ingombrante quando mi confidò come se fosse una specie di segreto Simonetta la più grande fortuna per un uomo è fare un mestiere che lo diverta io allora non ero più tanto bambina sapevo quanto il suo lavoro fosse impegnativo quanto fatica non solo intellettuale a volte anche fisica costasse correre con una cibo e presa in spalla però lui lo chiamava divertimento quindi questa qui c'era forse la sua cheta ironia che chiamava appunto il proprio lavoro comunque divertimento mi fu ingombrante quando una delle pochissime volte in cui io lo vidi commosso scoprì che usavamo Haydn come sotto la musica di Haydn come sottofondo io lo usavo per studiare e lui lo usava per scrivere le sue infinite meticolosissime sceneggiature di ciò su cui lavorava e infine fu ingombrante quando io gli chiesi come mai si fosse occupato solo di documentari in realtà questa domanda gli fu anche rivolta nella bellissima monografia a cura di Gianni Olla che è preceduta da una bella intervista a lui l'ultima domanda che Gianni gli fa è proprio su questo argomento siamo alla fine gli chiede ultima domanda perché non hai mai pensato di ritentare la strada del film a soggetto questa non è una domanda tanto strana perché effettivamente quando a Firenze sotto l'influsso è spinto proprio da dal suo amico Antonio Simon Mossa che lo iniziò al cinema che poi diventò per mio padre un mestiere ancora non era chiaro se per cinema si intendesse il cinema soggetto di cui hanno pure scritto alcune sceneggiature forse anche in parte girato questo non è ancora del tutto chiaro parte di questi film oppure forse il documentario comunque la domanda dice perché non hai mai pensato di ritentare la strada del film a soggetto e mio padre rispose è una domanda difficile probabilmente una volta intrapresa la strada dell'etnografia cinematografica sebbene organizzata spontaneamente ho avuto difficoltà a pensare la realtà in termini diversi certo il cinema di finzione mi piace ma per farlo occorre romanzare la realtà e questo mi ha sempre dato fastidio non ho la mentalità giusta o meglio non l'ho più avuta a partire dai miei primi film sulla Sardegna forse è accaduto quello che racconta Levi Strossi in alcune bellissime pagine di Tisti Tropici una tendenza naturale a farsi affascinare da queste cose dall'immutabilità di certe tradizioni dal peso delle vecchie culture un altro pezzo di mio padre questo e poi infine mi domando la sua fine la sua morte fu ingombrante? in realtà noi abbiamo ricevuto dalla sua morte un dono un regalo perché lui ci mostrò come sia possibile affrontare con laica consapevole consapevolissima serenità il proprio l'atto del morire tanto che a me in quell'occasione forse l'ho scritto anche da qualche parte credo che la descrizione di quello che del dono che noi abbiamo ricevuto sia contenuto in un libro bellissimo che raccomando a tutti se non avete paura del titolo che è modi di morire di Ayona It in cui lei dice scopro che alcuni possono raccontare il loro coinvolgimento in una morte davvero speciale in cui il morente era riuscito a controllare e orchestrare il processo e a morire con una dignità e una serenità che avevano dato a chi gli stava accanto la sensazione che prendevi parte fosse un privilegio e una misteriosa forma di arricchimento e questo questo ultimo regalo mio padre ce lo fece per cui se è vero che tanta curiosità tanta attenzione tanta serietà tanta passione nel lavoro che mio padre ha messo non è mai risultato ingombrante per chi a questa a questa grandezza in qualche misura è stato vicino e per chi ha sentito che comunque in questa vicinanza poteva esprimere se stesso senza che mai ci fosse un peso e adesso voglio proprio concludere perché vi ho trattenuto anche troppo con una ancora un'altra piccola citazione questa volta è una frase di mia figlia l'ho trovata in un'intervista che l'è stata fatta forse da un giornale online a proposito di un suo progetto che è stato il girare col regista iraniano Milad Tanshir un documentario in VR all'interno del carcere delle vallette di Torino quindi un'esperienza piuttosto al limite e Valentina viene interrogata su come si fosse sentita quando avevano discusso insieme a Milad di questo proposito di questa cosa qui e lui e lei risponde lei dice che quando discutevano di questo di questo progetto cinematografico mi si sono schiuse mille porte nella mente ecco io l'augurio con cui finisco questa mia relazione è che alle persone soprattutto alle persone più giovani che si avvicineranno al lavoro di mio padre possano davvero schiudersi mille porte nella mente grazie grazie Simonetta io non ho dotti di critica cinematografica tali da stilare classifiche però mi pare di capire che Lorenzo Serra lo dico da profano sia un punto di riferimento imprescindibile non tanto della cinematografia sarda ma credo del campo documentaristico mondiale non vedo la professoressa Panizza in rappresentanza del dipartimento di storia scienze dell'uomo della formazione mi pare che arriva fra un poco vabbè in ogni caso c'è un'ora della sua presenza e della sua amicizia il professor Mastino e il professor Alessandro Soducua presenti prima di iniziare il corpo degli interventi Simone Ligas ci farà da introdurrà il tema e la fase più pregnante del convegno grazie buongiorno a tutti il mio sarà un intervento brevissimo per parlarvi un attimo di questa edizione del Fiorenzo Serrapin Festival siamo arrivati alla quinta edizione come già si è detto abbiamo scelto la tematica dell'acqua che è una tematica molto importante negli studi etnografici perché attorno all'acqua ruota tutto e ovviamente gli studi etnografici sono orientati anche a studiare questa tematica e le sue relazioni con la cultura ma l'abbiamo scelto anche perché come diranno gli interventi successivi Fiorenzo Serra aveva un forte legame con l'acqua quello che hanno tutti gli isolani ma in Fiorenzo Serra si vede nei suoi lavori anche perché ci sono una lunga serie di lavori che proprio parlano dell'acqua dei lavori legati all'acqua questa edizione ha raccolto più di 500 iscrizioni come film non tutte le iscrizioni ovviamente sono a carattere tonografico una parte sono con il tema specifico dell'acqua e la seconda parte fanno parte della sezione sempre tonografica però dedicata ad Antonio Simon Mossa abbiamo fatto io e il collega Giuseppe un breve contributo video per riassumere tutti i film che sono stati presentati quindi prima di iniziare questa interessantissima conferenza dove abbiamo voluto coinvolgere non solo il dipartimento di cui facciamo parte ma anche il dipartimento dell'università a cui afferisce il nucleo ricerca di certificazione che è una realtà importantissima dell'università di Sassari l'università di Cagliari con Antioco Floris e Francesco Bacchis e la professoressa Pennaccini che per me personalmente è un grande onore avere qui dell'università di Torino che si occupa nello specifico di antropologia visuale che è la disciplina che io ho sempre studiato grazie per essere qua e mandiamo ora il contributo video grazie a tutti 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 Il primo intervento ha come titolo Una terra d'acqua, il documentario di Fiorenzo Serra, Antioco Floris, docente di cinema all'Università di Cagliari. Prego. Grazie, scusate ce l'abbiamo fatta. Comincio per ringraziare chiaramente gli organizzatori dell'invito perché è sempre un piacere per me intervenire nelle iniziative della società umanitaria. Io vengo da un punto di vista formativo dalla società umanitaria, mi sono formato all'interno della struttura di Cagliari e proprio lì che ho conosciuto personalmente Fiorenzo Serra e ho iniziato a occuparmi del suo lavoro dapprima come semplice collaboratore nella schedatura dei suoi film proprio per i cataloghi della Cineteca e poi anche la conoscenza diretta quando lui ha lavorato al montaggio del suo ultimo lavoro, cioè Islaunedda, la musica dei sardi, dove lui appunto passava le giornate alla Moviola in Cineteca col suo sigaro e quindi ho avuto occasione di conoscerlo in quel momento e poi di rincontrarci anche in seguito e poi ho approfondito lo studio del suo lavoro quando poi sono entrato all'università e che quindi ho cambiato sostanzialmente mestiere e ho cominciato a occuparmi di cinema non più semplicemente da un punto di vista organizzativo e formativo ma da un punto di vista della ricerca e di una formazione diversa. Ma passiamo al tema che devo sviluppare in questo breve intervento. Il tempo a disposizione è poco, per cui il mio discorso sarà essenzialmente un volo sull'opera di Fiorenzo Serra che richiederebbe ben più tempo per ragionare sul modo in cui lui racconta i mondi intorno all'acqua. Però il tempo a disposizione permetterà di focalizzare alcuni punti, almeno per le linee essenziali. Allora bisogna dire che, come già stato detto, l'acqua è un elemento ricorrente nella produzione di Fiorenzo Serra che, va ricordato anche questo, è una produzione veramente ricca e consistente che inizia in maniera organica nel 1948 con un film forse ancora un po' amatoriale ma diventa strutturata nel 1949 e poi prosegue continuativamente fino al 1969 con periodi in cui arriva a produrre anche 5-6 film ogni anno. Dal 1969 la produzione veramente si dirada e questo dipende sicuramente da fattori anche legati alla storia del cinema italiano in relazione quindi al documentario perché la nuova legge modifica gli assetti, c'è l'avventura della televisione, ci sono una serie di situazioni che cambiano. La prospettiva però arriva fino alla fine degli anni 90 e ai primi anni del 2000. è una produzione ricca, dicevo, che ha toccato tanti aspetti della cultura della Sardegna ma non solo perché ha lavorato anche nel continente e che può essere definita, io lo definisco come titolo di un mio saggio, una enciclopedia cinematografica della Sardegna. Per quanto riguarda il tema dell'acqua, e questo è un elemento che è presente con una posizione di rilievo già dall'inizio della sua produzione. Infatti il suo secondo documentario, che poi in realtà è forse il primo su standard professionali, è proprio incentrato sul mare, sul mare di Alghero, si intitola Nel Golfo del Corallo ed è un filmato in cui si osserva la città di Alghero ma si osserva il mare. Quindi c'è questo rapporto con l'elemento dell'acqua come tema portante di questo documentario. Ma forse tornando un pochino indietro, qualche considerazione va fatta rapidamente anche sul periodo in cui Fiorenzo Serra era studente, studente universitario nel continente, e troviamo tracce di un film incompiuto, la signora prima diceva non sappiamo poi se sia stato girato, ci sono informazioni discordanti a quanto mi risulta su questo, sceneggiato assieme all'amico Antonio Simon Mossa, prodotto dal cinegoof di Firenze che si intitola La barca sul fiume ed è una storia d'amore, un melodramma contrastato che si sviluppa intorno alle rive dell'Arno e l'Arno diventa proprio il punto di riferimento in cui queste vicende si incrociano. Ma appunto è solo un progetto, non ci rimangono se non delle immagini, delle fotografie, probabilmente è stato semplicemente iniziato come progetto e mai portato avanti. E ancora l'acqua ritorna, poi dopo questo primo film del 1949, per i primi lavori che Fiorenzo Serra realizza all'interno di una collaborazione che ha col Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Infatti Fiorenzo Serra già dal 1950 ha un incarico come consulente cinematografico per il Ministero dell'Agricoltura e realizza nell'ambito di questa collaborazione una serie di lavori sia in Sardegna che nel continente. E proprio nel 1950 realizza Acque nella pianura che è un film girato in pellicola a 35 mm, quindi su standard professionali, in cui si illustrano i piani di riforma agraria e di bonifica della Sardegna e in particolare quelli relativi alla costruzione delle dighe che sono finalizzate a combattere la tradizionale siccità del territorio isolano. Ricordiamo anche che con la collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura inizia anche una collaborazione con la Regione Sardegna che apre la strada la Regione Sardegna è da poco istituita come ente pubblico e apre la strada per ulteriori collaborazioni con l'ETFAS che è l'ente di bonifica l'ente territoriale della bonifica della Regione Sardegna e all'interno di questa collaborazione realizzerà, Fiorinzo Serra, sette documentari fra il 53 e il 57 in cui vengono raccontate le bonifiche in alcune regioni dell'isola che sono sette documentari davvero molto interessanti secondo me fra le punte principali del lavoro di serra ma torniamo all'acqua l'ambiente marino dopo questa incursione nelle acque della Sardegna ritorna ancora con dei documentari realizzati intorno alla zona di Alghero e quindi nel 52 abbiamo autunno sulla costa ma è soprattutto nel 55 che c'è una produzione consistente con ben tre documentari che sono Costa Nord Pescatori di Corallo e ancora sul mare di Alghero quindi tre lavori realizzati nello stesso anno sul modesimo oggetto che ci dicono qualcosa anche sul modo in cui Fiorinzo Serra si approccia alla produzione che è un modo originale sicuramente anticipatore di modelli che negli anni si diffonderanno sempre sempre di più e che diventerà caratteristico poi del lavoro delle televisioni Fiorinzo Serra prima ancora di pensare il film che realizzerà o in alcuni casi prima ancora di farlo non sempre gira con la macchina da presa per riprendere ambienti situazioni contesti che poi si prestano a essere raccontati in film diversi per cui lui costruisce quella che oggi potremmo chiamare una sorta di banca d'atti di un archivio di immagini che poi sono funzionali per costruire dei filmati e dei documentari questi documentari chiaramente assumono un senso poi in relazione al racconto che intorno ad essi è costruito un racconto che normalmente è elaborato col supporto di esperti di studiosi di settore che possono quindi arricchire quelle competenze che comunque Fiorinzo Serra è una persona molto colta quindi ha già di suo una base non indifferente che gli permette di ragionare con cognizione di causa su diversi temi però poi si rivolge a degli studiosi che sono come giustamente diceva la figlia prima forse le figure gli intellettuali più rilevanti nel periodo per elaborare i testi e quindi per accompagnare le immagini però diciamo che questa banca dati a lui serve sia per il suo lavoro di documentarista ma anche per cedere il giratto a delle produzioni per esempio sappiamo che ci sono delle produzioni della RAI che vengono proprio realizzate con il girato di di Fiorenzo Serra e poi adesso a posteriori di recente un lavoro che ha fatto prodotto dalla società umanitaria che ha curato Marco Antonio Pani sul girato non utilizzato abbiamo proprio evidenza di quanto è ricco il patrimonio non montato di di Fiorenzo Serra per capire meglio come però sono costruiti questi film nell'economia di questo intervento mi soffermo essenzialmente su due titoli che possono essere emblematici del modo di raccontare di Fiorenzo Serra ed è un modello che viene utilizzato sia nel cinema documentario che poi e voglio dire che il cinema documentario di ambiente marino che nel cinema documentario poi legato agli altri agli altri ambiti principalmente Fiorenzo Serra lavora su un modello di film che è quello che viene chiamato la formula 10 ossia sono dei documentari della durata di circa 10 minuti secondo più secondo meno che nascono principalmente per la cosiddetta programmazione obbligatoria ossia l'abbinamento a film di finzione film a soggetto come si chiamavano prima proiettati nelle sale cinematografiche che in qualche modo introducevano la visione di film di maggiore di maggiore durata e quindi il pubblico si recava principalmente per vedere i film di finzione e poi trovava questo documentario di 10 minuti che introduceva sono diciamo che il documentario italiano fino agli anni fino al 65 è in buona parte segnato da questo modello e quindi il contesto di fruizione impone anche dei modi di impone anche dei modelli di costruzione del racconto perché i film devono essere illustrativi devono far capire al pubblico chiaramente l'oggetto di cui si parla devono essere curati da un punto di vista formale e quindi di alta qualità visiva e sonora da questo punto di vista va detto che Fiorenzo Serra lavora in buona parte con uno dei musicisti più più importanti dell'epoca per quanto riguarda anche la musica colta che è il musicista di origini sarde Porrino Ennio Porrino chiedo scusa flash l'età comincia a farsi sentire Ennio Porrino che accompagna proprio là il film quindi questa è la caratteristica dei suoi lavori che è una caratteristica ricorrente nel caso specifico nel Golfo del Corallo è un film come detto prima del 1949 che propone un breve escursus sulla vita nella città di Alghero e poi nel Golfo davanti alla città e c'è una parte iniziale di introduzione al tema e uno sguardo al porto della città e dopo questa l'attenzione si rivolge ai pescatori di Aragoste e a quelli di Corallo ed è proprio la pesca del Corallo che è effettuata dai marinai provenienti da Torre del Greco che catalizza l'attenzione del regista e qui proprio i modi in cui noi vediamo è interessante perché la macchina da presa è collocata sulla barca in quadra utilizzando tutte le potenzialità della scala dei piani dei campi cioè quindi dal vicino a lontano dal dettaglio al particolare le operazioni dei marinai esaltando la componente plastica dei corpi quindi i volti i muscoli tesi i piedi che con passo cadenzato incerto compiono un cerchio intorno allargano muovendosi sui bordi della barca con le mani attente del capitano che controlla l'attenzione della fune quindi c'è una forte descrizione una forte attenzione al dettaglio per portare lo spettatore a immedesimarsi nella nella situazione la sequenza è inquadrata in bianco e nero quasi neorealista siamo appunto nel 49 ed è dominata da una musica orchestrale che va detto è piuttosto sovraccarica questo è uno degli elementi che connota anche in modo enfatico la situazione diciamo che ancora e poi lo vedremo meglio dopo Fiorenzo Serra utilizza una musica che copre di fatto il l'elemento che viene raccontato manca la componente sonora naturale e quindi si crea questa sorta anche di di rottura rispetto all'immedesimazione questa sorta di contrasto da un lato l'attenzione al dettaglio dei corpi e al loro lavoro lo sforzo del lavoro e dall'altro invece questa musica che è di contesto altro questo modo di raccontare viene superato però nel film che in qualche modo racconta la stessa storia ma alcuni anni dopo ossia nel 1955 quando noi abbiamo Pescatori di Corallo una pellicola che in questo caso è girata a colori quindi ha una evoluzione e evidentemente Serra ha raggiunto anche una maturità maggiore da un punto di vista registico e sebbene noi abbiamo all'inizio l'apertura su brani musicali dello stesso tenore progressivamente la musica si si affievolisce e si riduce e viene sostituita dai rumori d'ambiente a questo punto sentiamo il rumore dell'argano il motore della barca e quindi la componente della rumoristica rende più naturale il rapporto con ciò che viene narrato c'è un'attenzione molto molto precisa nella composizione del paesaggio sonoro che Serra ottiene chiaramente al tavolo di montaggio in questo periodo ancora non esisteva la registrazione in presa diretta quindi non c'è una registrazione sincronica e il montaggio del sonoro quindi va fatto a posteriori e questa precisione nella costruzione del sonoro l'ho vista quando Fiorenzo Serra 40 anni dopo ha montato Isla Uneddas dove proprio ha dovuto ricostruire con moltissima attenzione una colonna sonora per delle immagini che avevano solamente cioè un girato che era privo di sonoro e che quindi andava applicato a posteriori vado avanti rapidamente l'attenzione di Serra per l'acqua e per i lavori intorno all'acqua prosegue nel 62 abbiamo un il 63 un'attenzione verso i lavori della verso la la vita di Tonnara con un documentario che si appunto si titola appunto vita della Tonnara e l'anno successivo il giorno della mattanza quindi sulla pesca dei tonni ma voglio arrivare a concludere il mio intervento con un capitolo un episodio del film l'ultimo pugno di terra ci sono con i tempi dell'ultimo dell'ultimo pugno di terra che è in qualche modo la summa del del lavoro di Fiorenzo Serra un film che non non credo di fare uno di sbilanciarmi eccessivamente se dico che forse è uno dei film più importanti del del cinema girato in Sardegna e che è un film che bisognerebbe conoscere perché è uno spaccato importante sulla storia della Sardegna ma su un modo anche di rapportarsi e di riflettere tra l'altro di una straordinaria attualità perché ha da questo punto di vista alcuni aspetti che hanno il piglio dei classici e che quindi durano nel tempo e ci permettono quindi di osservarli per capire anche anche il presente l'ultimo pugno di terra è un film di lungometraggio è l'unico film di lungometraggio girato da Fiorenzo Serra almeno fino a quel periodo poi ci saranno altri documentari dopo ed è articolato in episodi il secondo episodio si intitola Cabras un feudo d'acqua ed è sicuramente ispirato alle ricerche agli studi che Peppino Fiori aveva fatto in quegli anni e quindi al volume Barone in Laguna pubblicato nel 61 da Il Bogino e poi rieditato qualche anno dopo dalla terza ecco Cabras è un feudo d'acqua racconta essenzialmente una storia una delle tante storie che secondo lo spirito del film dimostrano ci presentano una Sardegna incapace di entrare in rapporto con la modernità e quindi col progresso dico che il film è in sé un film strugente è un film intriso da pessimismo cosmico quasi leopardiano è un film che nasce per inizialmente per esaltare i vantaggi della rinascita e che poi in realtà non riesce a raggiungere questo obiettivo perché Fiorenzo Serra per la prima volta fa un documentario profondamente sociale analizzando le cause di una crisi che dura negli anni e che ahimè dura ancora oggi Cabras quindi racconta quello che l'ultimo spazio d'acqua ancora in mano a dei privati e questo fa sì che lo sfruttamento delle risorse itiche avvenga attraverso modalità prettamente feudali con i padroni che consentono la pesca secondo una gerarchia fortemente discriminante e le diverse categorie dei lavoratori che operano all'interno degli stagni possono pescare in maniera diversa secondo appunto del peso che hanno al di là della descrizione che viene fatta dalla voce narrante molto precisa e ripeto molto amara ciò che è interessante è il montaggio e la scelta delle inquadrature perché perché il montaggio e la scelta delle inquadrature ci raccontano ben più di quanto le parole non ci possano dire nel momento in cui noi vediamo sullo stagno di Cabras queste barchette di giunco che con una persona sopra che sembrano uscite da mondi del passato che con un arpione cercano di prendere il singolo pesce e che campano quindi pescando un pesce per volta con risultati che possono portare a una decina di pesce al giorno se tutto va bene e invece poi vediamo la rappresentazione iperbolica della parte pescata dai padroni dello stagno con queste ceste gigantesche con chili 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 di mugini buttati davanti alla macchina da presa noi abbiamo un'idea precisa che le parole non ci possono esprimere ma che solamente appunto un contrasto visivo ci dice il film è comunque piuttosto preciso nella descrizione anche delle dinamiche credo anche da un punto di vista antropologico ma qui non voglio entrare a toccare terreni che non sono i miei ed è molto efficace appunto nel descrivere una situazione il contesto degli stati di Cabras nel frattempo è cambiato le leggi hanno modificato quella condizione però rimane sempre ancora oggi l'ammarezza nell'appunto percepire questa situazione vorrei concludere riportando una parte del commento parlato se posso in cui appunto si descrive questa situazione che rende secondo me molto bene il senso anche di questo lavoro dice la voce narrante i servi di peschiera sono otto erano poveri prima di entrare in peschiera erano poveri come noi anzi più di noi è un testimone che sta che sta raccontando avevano tutto il muco sul naso neanche un calzone da cambiarsi perché uno quando entra nella peschiera esce come abbia trovato la casa di Dio c'è da tutto pesce carne di tutto quello che non c'è sto leggendo esattamente come dice la voce e quindi questi anacoluti non sono le dipendenze dalla mia trascrizione ma sono presenti proprio nella voce del testimone dice perché è entrato lì una volta è entrato nel paradiso si arricchisce di soldi di proprietà di case di tutto l'acquavite ce l'hanno sempre alla base delle mani sempre la dimingiana piena il vino nero e vernaccia non manca mai ce n'è più lì se non nella cantina e ogni cosa ogni bene di Dio e questa frase è accompagnata dalle immagini in cui noi vediamo invece le condizioni di vita di chi racconta che invece è uno che non è riuscito a diventare servo di peschiera ma che è rimasto pescatore pescatore umile ecco Fiorenzo Serra per concludere inizia un lavoro forse un po' per caso come molti di noi fanno le professioni del cinema non è una professione che fa parte del nostro DNA però poi si appassiona cresce e fa un'opera che è un contributo fondamentale per la storia della Sardegna ma per la storia del documentario più in generale grazie ringraziamo l'interessante relazione del professor Antioco Floris di come abbia fatto emergere in effetti come l'occhio cinematografico di Fiorenzo Serra abbia per certi casi sopperito anche alle difficoltà o anche alle censure che spesso il linguaggio vocale può incontrare nei meccanismi di denuncia sociale e politica ora non vorrei vestire i panni ingrati del Sogente di Ferro però vorrei notificare ai futuri relatori che lo spazio diciamo a loro concesso è nell'ordine dei 20 minuti anche perché i tempi sono ristretti la prossima relazione sarà della professoressa Cecilia Pennacini antropologa dell'Università di Torino il titolo della sua relazione è Cinema Antropologia e Cambiamento Sociale prego professoressa grazie grazie intanto comincio con ringraziare gli organizzatori per questo invito è stato davvero un piacere confrontarmi con il festival abbiamo visto molti film molto belli e anche alcuni basati tra l'altro su ricerche particolarmente stimolanti e poi l'occasione di oggi che per me è interessante perché Fiorenzo Serra è un autore che conoscevo poco conoscevo perché fa parte della storia dell'antropologia ma ho avuto occasione di approfondirlo e dico subito che sono un po' fuori tema perché siccome appunto non ho adeguate competenze conoscenze così approfondite sul cinema di Serra per affrontare il tema dell'acqua cercherò invece di inquadrare un pochino per come riesco quest'autore nella storia dell'antropologia visiva in particolare dell'antropologia visiva sarda facendo qualche considerazione anche comparativa con altri autori con altri due film in particolare due documentari etnografici girati in Sardegna il cinema è tempo è movimento dunque cambiamento un po' come l'acqua vorrei dire e quindi io mi concentro sul tema del cambiamento perché a mio modo di vedere l'ultimo pugno di terra è di David McDougal Tempus De Barista se un po' insomma in quest'ambito Serra De Seta e McDougal che voglio impostare la mia riflessione dicevo il cambiamento sociale che evidentemente è al centro dell'antropologia visiva sarda che nasce in fondo negli anni 50 mi sembra di poter dire per molto tempo non è stato raccontato nella storia dell'antropologia visiva i documentari etnografici per tanto tempo hanno descritto delle società statiche ferme immobili insomma nei primi 50 anni almeno della sua storia il documentario etnografico nasce col cinema quindi a fine ottocento pensiamo anche solo a pochi classici Nanook of the North Divine Horseman di Maria Deren i film di Bateson e della Mitz sono film che non prendono in considerazione la dimensione del cambiamento sono film che raccontano la società come se fosse perenne e immobile d'altronde anche l'antropologia più in generale ha avuto questa visione immobilista delle società per tanto tempo e solo negli anni 50 del 900 più o meno in concomitanza con l'inizio di queste produzioni sarde si è cominciato a dare rilevanza al tema del cambiamento e del conflitto noi studiamo gli autori della scuola di Manchester in particolare un famoso antropologo sudafricano Max Glackman a cui poi si sono aggiunti una schiera di altri antropologi gli ultimi sono i Comaro fallievi di questa scuola che ritengono che non si possano studiare le società se non studiandone il cambiamento che si basa sui conflitti quindi il conflitto e il cambiamento stanno nel cuore della vita sociale e sono imprescindibili nello studio antropologico della società in antropologia visiva forse Jean Rouch ad aver iniziato questa prospettiva ricordo il suo classico per noi fondamentale del 54 Le Meter Fou Jean Rouch lavorava un pochettino come Serra anche lui aveva un archivio di immagini che accumulava nel corso del tempo e noi ritroviamo le stesse inquadrature in diversi film e quindi c'è questa modalità di documentazione anche vorrei dire che è importante per l'etnografia per l'antropologia documentare la vita sociale nel suo cambiamento Le Meter Fou è un film che parla di colonizzazione e decolonizzazione siamo a tre anni dall'indipendenza del Ghana della allora Gold Coast e questo è un movimento diciamo che dinamizza l'antropologia e anche l'antropologia visiva dopo la seconda guerra mondiale con la guerra diciamo saltano tanti equilibri nel sud del mondo ma anche in Europa e c'è un'accelerazione evidentemente notevolissima dei processi di cambiamento economico e sociale l'antropologia non può più non tenerne conto e anche i film cominciano appunto ad affrontare questo tema quindi il tema del cambiamento sociale mi sembra centrale ed è un merito che vorrei come dire sottolineare per l'antropologia visiva qui in Sardegna che è un'antropologia fondamentalmente dinamista e non è banale ecco non è banale dirlo è importante ecco dicevo appunto mi concentro rapidamente perché so che abbiamo poco tempo su questi tre film l'ultimo pugno di terra Bandite Orgosolo che è il primo lungometraggio di De Seta un regista siciliano che però ha amato la Sardegna e l'ha descritta con grande attenzione è un regista americano trapiantato in Australia David McDougall che negli anni 90 dedica un film ai temi su cui lavorarono appunto Serra e De Seta tre film sul cambiamento un cambiamento che viene descritto in questi film con concetti termini diversi e le modalità con cui questo tema è affrontato è molto diverso in questi tre film quindi la comparazione forse ci aiuta anche forse a comprendere meglio anche Serra termini come rinascita modernizzazione industrializzazione statalizzazione un processo che viene descritto come l'abbandono progressivo del modello di una società pastorale contadina con tratti fondamentalmente acefali noi diciamo decentralizzati classici dell'antropologia vengono utilizzati un po' i termini che Evans Bricciad utilizzava per descrivere la società dei Nuer che è una società pastorale del Sud Sudan dove il conflitto è al centro dell'organizzazione sociale la violenza il frutto del bestiame e l'istituzione della faida di sangue modello definito arcaico mi sembra nel commento di Serra anche in De Seta da cui poi si sarebbe transitati verso un nuovo mondo in cui lo Stato centrale opera per esercitare un controllo sulla popolazione attraverso le leggi attraverso l'esercizio istituzionale della forza introducendo nuovi modelli economici però il risultato in realtà è il risultato di questa traiettoria non è scontato accennava anche prima Antioco il fin di sera evidentemente mette in evidenza questa problematicità in realtà questo modello non si realizza o non si realizza del tutto la rinascita attraverso l'industrializzazione appare quasi un traguardo irraggiungibile in Sardegna almeno in una delle versioni del film mentre invece funziona a Turino in Germania e quindi finisce col favorire l'emigrazione invece che lo sviluppo interno mentre invece si delinea mi pare sullo sfondo lo sviluppo del terziario dell'industria turistica che poi è un po' il tema anche del film di MacDougal ecco ma come viene descritto questo processo antropologico in questi tre film l'ultimo pugno di terra mi sembra un progetto molto ambizioso un progetto molto ampio un progetto che vuole descrivere la società sarda nella sua varietà nella sua ampiezza toccando quindi contesti sociali diversi il pastoralismo la pesca l'agricoltura temi molto diversi la violenza lo sfruttamento delle risorse umane la dominazione straniera la storia le città quelle antiche quelle di fondazione introduzione del denaro la famiglia quindi una varietà di te un'antropologia a tutto campo mi sembra di poter dire attraverso riprese appunto accumulate negli anni molto interessanti dal punto di vista visivo molto efficaci anche con una qualità estetica credo di poter dire notevole suggestiva paesaggio naturale e sociale dell'isola se analizziamo la struttura del film mi pare di poter dire che essa si basa fondamentalmente sulla costruzione di un discorso che è espresso dal commento dal commento dalla voce off diciamo che se non sbaglio è letto da Riccardo Pucciola almeno in una versione che è un commento continuo e poi con un inserimento di interviste le interviste sono molto interessanti ma sono quasi sempre off anche le interviste tranne pochi frammenti e un commento musicale anche sperimentale da quello che mi sembra di poter dire quindi interessante le testimonianze che per noi sono importanti in etnografia sono decisamente interessanti però non emerge alcun personaggio questo mi sembra di poter dire una caratteristica un film che parla di una collettività non ci sono protagonisti quindi è un mondo collettivista quasi che viene che viene descritto lo stile è un po' anche se qui non siamo nella formula 10 però rimane un po' quello del documentario etnografico De Martiniano che domina in Italia l'antropologia visiva di quegli anni in questi documentari il commento è sempre un po' soffocante vorrei dire perché appunto è un commento molto alto che tende un po' a neutralizzare le immagini quindi lo spettatore è un po' dominato da queste parole e perde forse in parte almeno l'espressività delle immagini che invece è importante dunque c'è un ambizioso progetto antropologico in una prospettiva di tipo evoluzionistico dobbiamo dirlo si ritorna spesso su questi termini su questi concetti la Sardegna è un mondo dove la preistoria non è mai finita dove c'è ancora il feudalesimo una società chiusa arcaica immobile misera da cui bisogna evolvere oppure fuggire dunque un film che certamente va collocato in quel periodo storico dal punto di vista della sua struttura narrativa e che però certamente mantiene un valore di fonte per l'antropologia e per la storia di grandissima rilevanza sono immagini che noi possiamo continuare a leggere a utilizzare anche in una prospettiva teorica diversa perché quella prospettiva è sicuramente non è più quella dell'antropologia attuale una piccola breve comparazione con l'opera di De Seta un regista siciliano che come è noto dedica due corti alla Sardegna sempre un po' in quella formula dei dieci minuti corti però privi di commento quindi dal punto di vista stilistico e strutturale è un tipo di lavoro completamente diverso certamente non c'era il sincrono del documentario però De Seta registra ne parlavamo ieri diciamo il suono non in presa diretta ma i suoni reali e fa un lavoro che tutto costruito appunto sul montaggio del suono e della musica restituisce una come dire un senso di realtà se vogliamo molto vivo e poi soprattutto il suo primo lungometraggio Bandite Orgosolo basato su un testo antropologico di un antropologo che aveva studiato il fenomeno del banditismo e del pastoralismo e che a mio modo di vedere da quello che ho potuto cogliere dal film perché insomma come fonte o solo il film era una ricerca sul campo lunga approfondita basata sulle relazioni che De Seta riesce a sviluppare in questa piccola comunità pastorale questa dimensione relazionale emerge molto forte dal film cosa che probabilmente invece è in parte almeno assente dal film di Serra e dunque un po' forse sulla scia quelli che noi oggi chiamiamo i documentari partecipativi che già Flaherty aveva inventato in fondo perché è l'inventore del documentario il film di De Seta che è una fiction ma è un film neorealista in cui sono i banditti sono i pastori sardi a recitare purtroppo lì c'è il doppiaggio che in italiano quindi ammazza un po' insomma l'espressività dei pastori però non è un documentario è una fiction e tuttavia è evidente come scaturisca da un'esperienza personale di vita sul campo di osservazione partecipante in stretta relazione con queste persone e quindi diciamo una rappresentazione in cui credo questa comunità si riconosce pienamente e questa è una dimensione molto contemporanea e arrivo brevemente al terzo film che volevo come dire citare perché anche qui il focus è sul pastoralismo e sul cambiamento che è il film di MacDougal del 93 un autore che già conosceva il mondo dei pastori perché aveva iniziato la sua carriera in Uganda tra i G dove lavoro io e poi in Kenya quindi aveva fatto un'esperienza diretta del pastoralismo africano che non è così dissimile per tanti aspetti da quello che si poteva osservare in Sardegna anche qui in Sardegna filma con la sua tecnica del cinema d'osservazione quindi lunghissimi piani sequenza sonoro in presa diretta finalmente si può fare i pastori parlano e vengono poi casomai sottotitolati con una partecipazione con anche una riflessione molto stretta molto diciamo puntuale sullo scrivere insieme una storia un testo c'è un famoso saggio di MacDougal che si chiede di chi è la storia di un documentario chi scrive questa storia sono io cineasta ma in realtà sono le persone con cui lavoro non tanto quindi un film sui pastori sardi ma un film con i pastori sardi che raccontano questo snodo e qui in realtà sono tre persone è un ragazzino con il padre e lo zio mi sembra quindi il cambiamento espresso a livello individuale non più come diciamo un elemento ineluttabile nel film di Serra anche in quello di De Seta i pastori sono in fondo inseriti nel flusso della storia trascinati verso il cambiamento non possono scegliere devono emigrare devono andare a lavorare altrove nell'industria l'individuo non c'è in fondo l'individuo non c'è MacDougal prende una posizione completamente diversa i pastori di MacDougal in particolare questo ragazzino 14 anni decide sceglie di rimanere pastore di continuare a fare il lavoro dei suoi genitori quindi la dimensione della scelta il cambiamento non è ineluttabile si può anche decidere di prendere una strada diversa ci sono storie diverse come dicono i comero ci sono diverse modernità quindi forse ci possiamo chiedere se questo pastoralismo sardo oggi non abbia una sua modernità non sia necessariamente da abbandonare ecco non voglio prendere altro tempo vedo che sono alla fine concludo concludo dicendo che questo tema così importante del cambiamento viene affrontato in maniera diversa diciamo nei film prevalgono atteggiamenti diversi la nostalgia prima la signora Sera parlava di tristi tropici il tema della nostalgia per questi mondi che scompaiono la fiducia nel progresso che c'è non molto direi però così che vorrebbe esserci ma non si arriva a trovarla oppure addirittura il riconoscimento appunto di una possibilità alternativa di una capacità degli individui di fare storia di fare cultura scegliendo questi percorsi in fondo MacDougal che forse è un autore così lontano no? Citevamo Levi Strauss lo sguardo da lontano un americano australiano che arriva qua e innesca quella dialettica identità alterità che è così importante per l'antropologia e che forse ci consente di schiudere quelle porte di cui parlava prima la signora Sera quindi vorrei dire insomma prendere onore all'Isere che ha deciso di produrre quel film è un'operazione anche molto coraggiosa ecco e concludo dicendo sono tre film straordinari tutti e tre e considerarli insieme mi ha aiutato a comprendere meglio queste caratteristiche vi ringrazio ringraziamo la professora di un'interessante devo dire che ha provocato in me diverse riflessioni perché in effetti noi anche nella cornice di questo festival e anche nel lavoro del laboratorio di antropologia visuale tendiamo in effetti a esplorare le affinità tra Fiorenzo Sera e Antonio Simon Mos due deuteragonisti gli studi però la sua relazione in realtà mi suggerisce un come dire un spunto per cui in realtà ci sarebbero delle differenze anche marcate a un certo punto dell'itinerario dei due da individuare credo nella metà degli anni sessanta perché alcune anche facendo fede dell'epistolario di Antonio Simon Mos in effetti la ricerca di Simon Mos di questa alternativa alla modernità la modernizzazione nella anche qua cornice del piano di rinascita credo che veda le due personalità in modo contrapposto l'interpretazione della rinascita che Simon Mos critica già dai suoi come come dire vagiti dai primi esperimenti credo che invece l'opera di Fiorenzo Serra la valli in una maniera come dire non dico acritica perché questo non è però in una maniera che posso dire neanche radicalmente però per certi versi differente da quella che dall'interpretazione di Antonio Simon Mos va bene ma non voglio mettere la mia mano su questo convegno anche perché ripeto sono io il primo che deve rendere conto dei tempi ristretti la prossima relazione del professor Francesco Bacchis antropologo dell'Università di Cagliari e ha come titolo il governo dell'acqua note etnografiche dai mondi di miniera in Sardegna prego grazie grazie a Iose a Simone a tutti gli organizzatori a società umanitaria e mi permetto di dire anche al Dipartimento di Storia Scienze dell'Uomo della Formazione che fa gli organizzatori di questa importante iniziativa il mio sarà un intervento che in realtà diciamo è connesso al tema dell'acqua e guarda questo tema da un punto di vista molto specifico dal punto di vista territoriale specifico ma anche dal punto di vista se vogliamo dell'oggetto della mia riflessione è che in realtà non presenta in questa relazione delle connessioni forti con il mondo del visivo neanche con diciamo connessioni esplicite e forti ma che è frutto e questo secondo me influisce su quello che io dirò sulle riflessioni che porterò oggi è frutto di una ricerca visiva di etnografia visiva per me lavorare con le memorie dei minatori del sulci siglesiente che sono diciamo così il terreno di ricerca da cui muove questo intervento ha significato prima di tutto imparare a utilizzare una telecamera e imparare a utilizzarla facendo ricerca quindi le cose che io vi porterò oggi sono diciamo connesse strettamente al mondo dell'etnografia visiva pur non essendo una riflessione di etnografia visiva e mi permettete prima una diciamo un'apertura generale di questo intervento perché ragionare sul rapporto fra acqua e mondo di miniera e mondi di miniera significa ragionare innanzitutto sulla carattere acquisitivo dell'attività mineraria cioè il fatto che tecnicamente proprio nonostante noi immaginiamo il mondo delle miniere come forse l'emblema più evidente di quello che oggi chiamiamo antropocene se avete visto il documentario antropocene che ha avuto pericchi premi che ha girato parecchio moltissime di quelle riprese proprio per l'evocatività di trasformazione della potenza dell'umano sulla terra sono scene girate in ambienti minerari ecco nonostante questo l'attività mineraria resta un'attività acquisitiva cioè detto dal manuale di antropologia di caccia e raccolta in buona sostanza non è un'attività produttiva trasformativa se non nella diciamo così implementazione di tutte le tecniche le tecnologie che servono per come dicono i minatori arricchire ciò che si è estratto ma è un'attività che ha a che fare col prendere dalla natura e questo nel rapporto con l'acqua è molto importante perché fa dell'attività estrattiva cioè dà l'attività estrattiva un carattere molto simile a quello che effettivamente le società cosiddette società acquisitive avevano e cioè per esempio le forme di mobilità la continua la conoscenza molto dettagliata dell'ambiente la continua mobilità dietro l'acqua ecco dietro l'acqua dietro le risorse mettiamola così in maniera forse semplificata ma questo rapporto intimo con con l'acqua è un rapporto che salta agli occhi quando si guarda il mondo delle miniere al punto che l'intera storia estrattiva anche nelle immense trasformazioni che ha avuto nel corso ovviamente dei secoli può essere appunto letta come un'attività acquisitiva e può essere letta attraverso il prisma del rapporto fra estrarre fra l'estrazione e l'acqua in due sensi il primo senso ovviamente che è quello che diciamo così più evidente anche a un guardo esterno non competente rispetto ai mondi di miniera è l'uso dell'acqua nelle attività minerarie anche in contesti estrattivi artigianali privi dei problemi legati alle acque di falda che sono insomma la prima cosa che viene in mente a qualsiasi ingegnere quando si parla di miniere è acqua cioè incontrare l'acqua durante i processi estrattivi è uno dei primi strumenti l'acqua che si utilizzano per arricchire l'estratto il classico stereotipo del cercatore d'oro americano che pulisce la terra con un setaccio nel fiume ecco l'uso dell'acqua con fini diciamo così di arricchimento è la prima fondamentale diciamo il primo gesto tecnico dell'attività estrattiva assieme alla frantumazione del minerale e quindi l'uso dell'acqua la miniera l'attività estrattiva ha bisogno di corsi d'acqua e ciò diciamo questi ha bisogno sempre più di acqua nel corso del tempo le trasformazioni tecnologiche connesse all'attività estrattiva diventare da un'attività fondamentalmente artigianale individuale o di piccoli gruppi come era in realtà fino al 1600 anche 1700 in parte anche in Europa diventa un'attività che ha necessità di organizzazioni tecniche molto ampie ha necessità di tecnologia l'acqua rimane al centro del processo estrattivo per questa ragione al punto che il rapporto tra l'attività estrattiva e l'acqua diventa il principale la prima spia delle trasformazioni profonde dell'attività estrattive nell'ambiente e del danno che queste fanno c'è un famosissimo passo di Engels del 1845 dell'indagine sulla classe operaia Manchester in cui parla della toponomastica dei fiumi lui naturalmente stava in un contesto di industria tessile ma alcuni di questi fiumi si chiamavano Red River eccetera eccetera per i processi diciamo così di arricchimento dei minerali quindi di lavaggio dell'estratto che avvenivano nel corso dei secoli in alcune zone che avevano colorato materialmente i fiumi ma insomma per chi gira per miniere per chi ha anche uno sguardo turistico sulle miniere questo è una cosa abbastanza evidente perché nonostante la chiusura di questa storia estrattiva nella Sardegna sud occidentale i fiumi colorati i ruscelli colorati sono ancora presenti il secondo elemento è quello che dà il titolo mio intervento cioè il governo dell'acqua con l'aumento della capacità estrattiva delle tecniche connesse con l'affinazione di queste tecniche e soprattutto con l'aumento dell'esplorazione dell'individuazione dei filoni da coltivare quindi quando l'attività estrattiva diventa qualcosa che si fa principalmente se non esclusivamente sottoterra il rapporto con l'acqua diventa un rapporto conflittuale l'attività dell'estrarre si espande investendo bacini sempre più ampi e la capacità di scavo in profondità diventa uno degli elementi che fanno emergere l'acqua come problema il governo dell'acqua diventa a quel punto una condizione indispensabile per continuare l'estrazione e l'affinamento delle tecniche del governo dell'acqua quindi tutte le opere ingegneristiche che sono necessarie per edurre l'acqua come si dice tecnicamente o per costruire canali di scolo per farla fuoriuscire dalle montagne diventano importanti e diventano tanto più importanti quando parliamo delle aree minerarie della Sardegna sud-occidentale in cui si può dire forse con una semplificazione che l'intero bacino piombo-zincifero o l'intero bacino metallifero della Sardegna sud-occidentale galleggia sull'acqua proprio stamattina mentre pensavo se portare delle slide o no ho trovato una bellissima immagine dell'Igea con i livelli dell'acqua nel comprensorio piombo-zincifero di Monteponi quindi parliamo della diciamo della prima miniera industriale avanzata che è stata costruita in Sardegna per estrarre metalli e di come questi diciamo e di come proprio l'attività di scavo dei minatori delle imprese minerarie abbia incontrato l'acqua e ha avuto sempre più necessità di costruire degli artefatti tecnologici per portarla via dalla miniera per portarla per chi conosce le zone insomma attraverso dei canali fino al mare fino a Fontanamare e poi ed urla con pompe meccaniche prima la gravità e poi la forza meccanica per portare via le acque ora a differenza di altre di altri elementi diciamo perennemente presenti nelle narrazioni dei minatori che sono le cose di cui io mi sono occupato nei racconti nelle memorie dei minatori quindi per esempio a differenza della luce che è non solo costantemente raccontata come lo strumento di sopravvivenza il modo di costruire un ambiente vitale in memoria in miniera scusate ma questo oltre che nelle memorie dei minatori c'è nella letteratura colta in Pinandello e Zola la luce è il diciamo non solo un dispositivo di sicurezza ma è la rappresentazione della salvezza e della vita dentro un posto che è anche un posto di morte ecco a differenza di cose come la luce l'acqua nelle narrazioni dei minatori ha sempre avuto uno statuto sfuggente ambiguo cioè contemporaneamente è un qualcosa che dà la vita è un qualcosa che rischia di toglierla o che va in qualche modo appunto governata per esempio a partire dal dopoguerra emerge dalle memorie di minatori come a partire dal dopoguerra con alcune premesse che in Sardegna e specificamente nell'area metallifera per la particolare organizzazione della classe operaia di quell'area rimandano anche ai primi del novecento il movimento dei lavoratori e le sue organizzazioni impiantano una lunga serie di vertenze per il riconoscimento economico quindi non solo per la sicurezza ma anche per il riconoscimento economico del cosiddetto stilicidio chi conosce insomma vertenze sindacali dell'epoca sa di cosa parlo cioè venivano pagati maggiormente i minatori che lavoravano sia in cantieri cosiddetti di avanzamento cioè per dirlo in termini non tecnici le gallerie che portano al filone che poi bisogna coltivare sia a quelli che materialmente stavano al fronte come dico i minatori cioè nel posto in cui c'era l'abbattaggio in cui c'erano appunto i minerali che bisogna buttare giù con le volate o con i martelli pneumatici o con mezzi meccanici ecco chi lavorava nell'acqua aveva riconosciuto un si rivendicava per questi un riconoscimento di economico per la presenza di questo per la presenza fastidiosa dell'acqua che naturalmente non veniva edotta dalle gallerie totalmente ma rimaneva soprattutto nelle succesi iglesi dentro ecco nei racconti emerge appunto questo rapporto conflittuale con quest'acqua e emerge anche diciamo forse in un punto in una in memoria nelle memorie è sentito con maggiore intensità dai cosiddetti minatori veri e propri come li chiamano i minatori stessi cioè nella logica interna della miniera il minatore è quello che materialmente fa le mine cioè che fa i fori nelle diciamo dentro le gallerie nella montagna per l'abbattaggio del minerale quindi fa i fori per metterci le mine dentro e far saltare pezzi di 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 montagna per recuperare il minerale ecco questi minatori veri e propri quindi con il linguaggio interno dei mondi di miniera cioè i perforatori hanno con l'acqua un altro rapporto ambiguo ancora più più interessante da da leggere e cioè un momento di passaggio tecnologico molto importante nelle miniere del sulci siglesiente ma in generale nel mondo minerario dalle dei perforatori meccanici cosiddetti a secco a quelli con l'acqua cioè cosa succedeva che per fare la volata per fare per forare le pareti e sistemare l'esplosivo in modo da abbattere la un quantitativo di roccia con dentro il minerale era necessario utilizzare dei perforatori meccanici per l'appunto questo già da parecchio tempo in Sardegna insomma ci sono anche dei brevetti specifici sull'abbattaggio molto interessanti che hanno studiato gli storici e alcuni colleghi e questi naturalmente producevano della polvere che è uno dei fattori diciamo di incorporazione della miniera da parte dei minatori anche riconosciuti non solo dalla legge ma rivendicati in un certo senso addirittura i famosi punti di silicosi per chi conosce i minatori sono oggetto a volte anche di discorsi anche fra anziani vecchi minatori piuttosto anche diciamo così ironici a quanti punti di silicosi ti hanno dato a me mi hanno dato uno in meno mi ricorda questo una bellissima etnografia sul mondo minerario che è fatta in un altro contesto tecnologico in un altro contesto territoriale che è quella di Junesh che si intitola in italiano noi mangiamo la miniera la miniera mangia noi ecco sono processi di incorporazione che nei racconti dei minatori sono continui ecco mangiare la polvere perché non c'è l'acqua allora ci sono delle innovazioni tecnologiche all'interno dei processi di perforazione che consentono di affiancare al perforatore una pompetta d'acqua esattamente come si fanno moltissimi cantieri anche all'aperto sia cantieri estrattivi che cantieri per limitare la volatilità delle polveri e quindi l'acqua diventa strumento di salvezza nei racconti di minatori e subito dopo però immediatamente diventa nuovamente strumento di di tortura perché chiaramente lavorare con un perforatore meccanico che ha questo sistema significa lavorare nuovamente in mezzo all'acqua a lavorare a contatto costante e continuo e questo emerge in maniera molto forte nei racconti dei minatori questa ambiguità e questa continua negoziazione della necessità della presenza dell'acqua dentro la miniera cioè diciamo della necessità di togliere l'acqua per poter portare il pane a casa quindi costruire per esempio degli impianti fantasmagorici come sono stati fino al loro allagamento quelli del sulcis iglesiente di eduzione delle acque e quindi di conquista di nuova terra da coltivare nel senso letterale del termine cioè da da cui trar fuori dentro la montagna il minerale è contemporaneamente un qualcosa che serve per altri scopi ora io vorrei chiudere con invece un ultimo aspetto che mi pare ancora più interessante dal punto di vista che ho adottato io dal mio posizionamento diciamo in termini tecnici in antropologia cioè io ho iniziato a studiare i mondi di miniera quando le miniere erano chiuse quasi tutte l'ultima che ha chiuso in sardina come sapete come sapete nei sardi è quella di carbone di un ragifigus che ha chiuso alla fine del 2018 come miniera vera e propria in realtà poi le strutture sono ancora presenti si fa si fa altro ma le miniere di piombo zinco le metallifere che io ho studiato maggiormente chiudono fra il 1992 e il 1993 sono miniere già del tutto statali all'epoca in un contesto appunto di privatizzazioni ristrutturazione si comincia a parlare più pesantemente di debito pubblico in Italia le miniere sono fortemente imperdi dal punto di vista economico tra l'altro sono fortemente imperdi questo è lo sguardo chiaramente di chi le chiude anche per via dell'acqua cioè per via del fatto che sono dei miniere che galleggiano sull'acqua e hanno bisogno di una enorme quantità di energia per togliere l'acqua dalla montagna ma l'acqua ritorna come l'elemento fondamentale di chiusura di una storia mineraria in moltissimi racconti dei minatori del sulcis iglesiente è l'acqua a chiudere la miniere un'altra volta è l'acqua tolta dalla montagna a aprirla quindi a renderla produttiva e a rendere quel bacino un bacino che a un certo punto è al centro diciamo fra i principali bacini estrativi d'Europa ed è l'acqua che chiude definitivamente la storia perché ovviamente una miniera che nel 92 93 il bacino estrativo del sulcis iglesiente quindi il complesso Monteponi San Giovanni per chi conosce le zone sa di cosa parlo ha 150 anni circa di storia alle spalle di storia industriale alle spalle naturalmente la storia estrativa rimanda a tempi non facilmente diciamo individuabili sicuramente all'epoca giudicale con il sistema delle fosse ma probabilmente molto molto prima ma il sistema industriale quindi quello basato sulla continua battaglia con l'acqua per poter proseguire l'estrazione ha già 150 anni è uno diciamo dei sistemi di eduzione delle acque e di estrazione della del minerale più avanzati al mondo tutta l'area è diciamo coperta da gallerie di passaggio di carreggio cosiddette cioè quelle che portano fuori il minerale è percorribile in larga parte attraverso mezzi meccanici esterni cioè per capirci specie di camion che stanno dentro la montagna e che fanno da un cantiere all'altro si sono fatti degli investimenti enormi a un certo punto queste miniere chiudono e nei racconti dei minatori questa fine di un mondo che per molti di loro è la fine del mondo perché è una monocultura mineraria che dura ormai da secoli è rappresentata proprio dallo spegnimento delle pompe di eduzione ci sono dei racconti molto toccanti da questo punto di vista cioè nel senso in cui il minatore si commuove quando racconta che qualche anno più tardi ovviamente rispetto al 92 93 perché sono operazioni tecniche complessissime non è che uno chiude il cancello alla miniera e se ne va spegnere le pompe di eduzione significa cambiare completamente l'ambiente interno e esterno alla miniera cioè riportare l'acqua a livello di falda cosa che in effetti se parlate anche semplicemente con gli amministratori locali dell'area del sulcisiglesiente vi racconteranno ruscelli che ricompaiono dove insomma non ce n'è la traccia da secoli perché le acque una volta che non vengono più portate fuori dalla montagna risalgono come si dice a livello di falda e quindi rientrano in altri posti ecco nelle storie dei minatori quell'elemento lì che è anche tecnicamente l'elemento di chiusura definitiva di una storia cioè spegnere le pompe di eduzione e lasciare che l'acqua faccia il suo corso diventa il momento in cui finisce una storia io credo di aver esaurito il mio tempo e vi ringrazio per l'attenzione grazie ringraziamo professor Bacchis questa acqua che è la duplice veste di vita e morte tra l'altro l'acqua alla fine della storia infatti noi non dobbiamo mai dimenticare che il primo principio che è inquietato su cui si è interrogato il pensiero aurorale dell'occidente è l'acqua l'elemento acqua come fondamento della physis ricordate riminiscenze talete pensiero inconsistente tra l'altro diceva Nietzsche però si ma ha avuto il merito di come dire l'elemento acqua come fondamento base del reale addirittura ma visto che è passato dalla mia sinistra alla mia destra introduco la dottoressa Nadia Rondello della società umanitaria di Alghero con la relazione dal titolo Fiorenzo Serra un cinegufino d'eccezione prego il precario equilibrio prego eccomi si sente sì allora grazie buongiorno a tutte e a tutti io sono contenta di fare questo intervento ringrazio i colleghi del laboratorio di antropologia visuale che mi hanno chiesto di fare un intervento sull'esperienza cinegufina di Fiorenzo Serra nella quale mi sono sempre occupata in realtà in maniera indiretta mi ci sono imbattuta nel lontano 2009 quando ho iniziato a studiare cineguf nello specifico il caso del cineguf di Sassari e l'esperienza del cineguf in Orturusai che sono diventati poi l'argomento della mia tesi di laurea magistrale e mi ci sono rimbattuta a distanza di circa 10 anni ora che sono impegnata in un progetto di ricerca che sto sviluppando per conto della società umanitaria nell'ambito del corso di dottorato in culture e letterature turismo e territorio che sto frequentando presso l'università di Sassari che indaga l'esperienza cinegufina di Antonio Simon Mossa nell'ambito del cineguf di Firenze quindi in realtà in questo momento sono nella doppia veste di operatrice culturale dell'umanitaria ma anche di dottoranda presso l'università di Sassari perché Fiorenzo Antonio e Arturo si formano nell'ambito delle stesse organizzazioni fasciste spesso e volentieri si trovano a collaborare a diversi progetti mi perdonerete ma io li chiamerò sempre per nome perché ormai sono entrata in confidenza insomma mi sento molto intima con questi tre giovani mi permetto di fare una brevissima premessa sul contesto storico per capire qual è il percorso che compie Fiorenzo e che lo porta ad avere un determinato tipo di preparazione cinematografica di formazione cinematografica siamo naturalmente nel pieno del fascismo nell'arco del ventennio il regime si sforza diciamo di imporre la sua rivoluzione culturale lo fa attraverso la creazione di un'organizzazione burocratica piuttosto complessa articolata fatta di schieramenti e affiliazioni di natura pubblica e statalista che hanno il compito di controllare tutti gli aspetti della vita culturale in particolar modo si concentrerà sui mezzi di comunicazione di massa quindi cinema stampa e radio a lungo perché si riveleranno chiaramente utili ai fini della propaganda fascista a lungo il cinema viene considerato l'arma più forte del regime e sono tantissime le organizzazioni che vengono create in quel contesto e con questo obiettivo io adesso qua ne ho indicato ho indicato le principali ma ce ne sono tantissime altre e i cineguf si sposano con un altro elemento chiave della propaganda fascista che è l'inquadramento della gioventù i giovani hanno un ruolo fondamentale per il regime perché da prima da subito praticamente vengono inquadrati inizialmente nell'opera nazionale balilla che li distingue a seconda appunto delle fasce d'età l'opera nazionale balilla nasce comente complementare all'istituzione scolastica anche la scuola ha un ruolo fondamentale che è quello di distinguere i giovani gli studenti a seconda dell'appartenenza sociale quindi i figli dei proletari sono destinati a frequentare le scuole d'arte dei mestieri per poi essere inseriti in un sistema lavorativo di tipo operaio e avviati alla produzione i figli dei borghesi invece sono destinati a frequentare i licei classico scientifico per poi frequentare l'università e nel disegno politico di Mussolini poter ricoprire ruoli di prestigio di comando un domani terminate le scuole i giovani vengono quindi suddivisi in altri due gruppi i gruppi universitari fascisti GUF per tutti coloro che frequentano l'università e i fasci giovanili di combattimento per chi non frequenta l'università che in un secondo momento insieme all'opera nazionale Balilla saranno riorganizzati nella gioventù italiana del vittorio quindi chiunque voglia frequentare l'università in realtà è quasi obbligato ad aderire all'organizzazione al GUF parlo di obbligatorietà e si parla a lungo di obbligatorietà in realtà questa non viene diciamo messa in cita per mezzo di decreto legge però di fatto se non si vuole rimanere esclusi da un sistema che permette anche un determinato tipo di formazione oltre all'inquadramento ideologico dal quale tra l'altro i giovani prenderanno anche le distanze a un certo punto si deve aderire tra l'altro dal 38 l'iscrizione al GUF equivarrà all'iscrizione al partito ogni università ha il suo gruppo di riferimento il suo gruppo universitario fascista tutti i gruppi sono organizzati coordinati a livello nazionale dalla segreteria nazionale dei GUF e sono alle dirette dipendenze del partito ogni gruppo è suddiviso in nove uffici che sono quelli che vedete nello specchietto e parte di questi uffici sono suddivisi in varie sezioni una sezione dell'ufficio cultura è la sezione cinematografica nota appunto come CineGoof CineGoof sorgono tra il 32 e il 34 inizialmente nelle principali università italiane e poi dal 34 saranno attivi in tutte le università italiane nascono inizialmente per inglobare i disciolti CineClub e infatti in un primo momento non accolgono solo gli studenti accolgono anche i soci delle precedenti organizzazioni dopodiché in un secondo momento accoglieranno solo gli studenti e avranno il compito di diffondere la conoscenza del cinema tra la massa studentesca e di formare gli operatori del domani i professionisti del domani perché il disegno politico di Mussolini prevedeva lo svecchiamento dei quadri quindi i quadri che erano ancora in mano alle vecchie generazioni andavano affidati alle nuove generazioni che crescevano nascevano e crescevano sotto regime e quindi insieme il CineGoof così come poi farà il centro sperimentale di cinematografia a partire dal 35 hanno il compito di individuare gli studenti migliori i giovani più capaci in modo da essere messi nelle istituzioni di regime in questo caso nelle istituzioni culturali e nell'industria cinematografica nazionale che cosa fanno nello specifico i CineGoof organizzano proiezioni cinematografiche incentivano la conoscenza della storia della teoria del cinema attraverso l'organizzazione di lezioni e convegni incentivano e cercano di far sviluppare ai giovani la pratica della critica cinematografica e questo lo fanno attraverso il giornalismo attraverso la pratica sulla stampa goliardica ma non solo anche sui quotidiani nazionali e naturalmente formano le maestranze quindi danno la possibilità ai giovani di occuparsi concretamente di cinema di farlo di scriverlo ma anche di girarlo e quindi di formare degli operatori completi diciamo a 360 gradi arriviamo quindi al caso di Fiorenzo Fiorenzo nasce nel 21 e quindi secondo la trafila che vi ho appena illustrato dopo aver frequentato il liceo scientifico Giovanni Spano di Sassari nel 39 si iscrive alla facoltà di scienze naturali fisiche e matematiche dell'università di Firenze è automaticamente chiaramente iscritto al GUF nell'ottobre del 39 a Firenze incontra un altro giovane un pochettino più grande di lui che si chiama Antonio Simon Mossa che i due insomma chiacchierano si conoscono fanno amicizia e scoprono di avere in comune la passione per il cinema una passione che coltivano sin dai tempi del liceo e così decidono di presentarsi alla sede del CineGoof di Firenze che all'epoca si trovava in via dei Servi ed era retta dal fiduciario Sergio Lepri Sergio Lepri che tra l'altro all'indomani dell'armistizio si unirà alla resistenza prima con il partito d'azione e poi con il partito liberale che negli anni diventerà un affermato giornalista saggista e accademico d'Italia è ancora in vita e infatti sto sperando che possa rispondere ad alcune domande che gli ho posto e comunque Lepri li accoglie con grande entusiasmo e gli affida il compito di scrivere di dedicarsi alla stesura posso avere un po' di acqua per favore di dedicarsi alla stesura di un soggetto cinematografico per un film documentario film documentario che dovrà essere presentato alla nuova edizione dei litoriali della cultura e dell'arte che si terranno a Bologna dal 21 al 28 aprile del 1940 brevemente i litoriali sono una delle più importanti manifestazioni che vengono organizzate dal partito e dai gruppi universitari fascisti per la gioventù come vedete dallo schema si articolano chiaramente i maschili e femminili vengono organizzati ne vengono organizzati di vario tipo ci concentriamo naturalmente sui litoriali della cultura e dell'arte che sono vengono considerati delle vere e proprie olimpiadi della cultura attraverso queste manifestazioni i giovani studenti universitari provenienti da tutta Italia si sfidano si confrontano attraverso la partecipazione a convegni concorsi e mostre d'arte sulle tematiche più varie e danno la possibilità quindi di entrare in contatto tra loro e spesso e volentieri anche poi di stringere rapporti di amicizia ma anche stringere rapporti di collaborazione nell'ottica del regime i litoriali avrebbero dovuto rappresentare diciamo una sorta di trampolino di lancio per l'inserimento dei giovani nel mondo professionale un po' quello che avrebbero dovuto fare anche i CineGuf e che in parte faranno nel 34 vengono istituiti i litoriali della cinematografia che sono una specie di sottocategoria diciamo dei litoriali della cultura e dell'arte che si articolano come potete vedere in convegno di critica cinematografica concorso per un film per un soggetto cinematografico e concorso per un film a passo ridotto che può essere appunto a soggetto documentario e scientifico quindi in vista di questa manifestazione Fiorenzo e Antonio scrivono il soggetto cinematografico per un film documentario dal titolo L'Armata Grigia ci lavorano presumibilmente tra il novembre del 39 e il gennaio del 1940 e scrivono sostanzialmente un documentario che racconta la vita e il lavoro degli spazzini di Firenze un film che Fiorenzo stesso sottolinea essere neorealista naturalmente si parla di un neorealismo antelitteram però non ha tutti i torti perché è vero che il neorealismo cinematografico nasce ufficialmente nel 43 con i film di sconti ossessione però è anche vero che già delle prime tracce di neorealismo si riscontrano proprio nell'ambito delle sperimentazioni e della produzione cineguppina anche perché la maggior parte dei registi neorealisti si formeranno proprio nell'ambito dei cinegupp quindi scrivono questo soggetto io quando parlo di soggetto poi vedete nell'immagine in realtà una sceneggiatura perché è vero che il concorso è per il soggetto cinematografico però i littoriali nel corso degli anni diciamo che affineranno i loro regolamenti e richiederanno in realtà una documentazione molto più completa che prevede la sceneggiatura completa di inquadrature di musiche bozzetti fotografie insomma tutti quegli elementi a corredo che possano in qualche modo dimostrare poi la fattibilità dell'opera perché nelle prime edizioni spesso si trovavano ad avere che fare con soggetti scritti che poi non erano in realtà materialmente realizzabili in realtà il lavoro di Fiorenzo Antonio si dimostra un lavoro completo completo di inquadrature completo di musiche fanno addirittura degli schizzi sui luoghi fanno dei sovraluoghi attentissimi accuratissimi nella città di Firenze scelgono addirittura i collaboratori però a un certo punto Sergio Lepri almeno questo è quello che ci racconta Fiorenzo non potendosi più occupare del film a soggetto al quale sta lavorando lui in vista dei litoriali della cultura e dell'arte chiede ai due di dedicarsi alla stesura di un soggetto cinematografico a tema di finzione a tema libero in realtà Fiorenzo riprenderà il tema dell'armata grigia per sviluppare un altro soggetto cinematografico che si intitola il ferro magico conosciuto anche come nebbia si tratta appunto di una favola di una sorta di favola moderna che ha per protagonista sempre un neturbino nel riquadro potete leggere una breve una breve sinossi e in realtà né la versione scritta a quattro mani con Antonio né la versione scritta individualmente da Fiorenzo saranno mai realizzate però mi ha colpito una cosa intanto sappiamo molto probabilmente una prima versione del ferro magico viene scritta in previsione dei pre-elitoriali perché per accedere ai litoriali bisogna superare delle pre-selezioni che sono i pre-elitoriali che si tengono nelle proprie sedi universitarie a febbraio del 40 quindi noi sappiamo che Fiorenzo si presenta un soggetto cinematografico di cui però non conosco ancora il titolo ma presumo possa essere un'idea primigenia del ferro magico viene presentata ai pre-elitoriali per poter essere poi presentata appunto ai litoriali dell'aprile in realtà questo soggetto viene respinto perché non è completo secondo Sergio Lepri che era appunto il fiduciario della sezione quindi decideva su cosa passava e cosa no in realtà quell'anno però Fiorenzo partecipa ai litoriali della cultura e dell'arte partecipa nel convegno di composizione poetica perché appunto già in quegli anni compone diverse poesie e molto amico di Piero Santi che è già un affermato poeta e che frequenta la redazione di Rivoluzione il quindicinale del Wuf di Firenze al quale collaboreranno anche Antonio e Fiorenzo comunque quindi questo film non viene realizzato Fiorenzo in un'intervista che rilascia a Raffaele Essari per la redazione di un libro dedicato all'Antonio Simon Mossa in realtà parla anche questo chiaramente non realista scherza ironizza sul fatto su un ipotetico plagio da parte di Michelangelo Antonioni perché nel 1948 Antonioni realizza il suo secondo documentario che tra l'altro vince anche il nastro d'argento che si intitola N1 e Tezza Urbana che guarda a caso racconta la vita e il lavoro degli spazzini di Roma se avete piacere lo trovate sul sito dell'istituto Luce lo potete vedere dura una decina di minuti ma quello che mi ha colpito di questa vicenda sono i titoli di testa perché al comparto organizzazione nel film di Antonioni compare un certo Vieri Bigazzi che ritroviamo coinvolto nella vicenda di un altro film al quale lavorano Antonio e Fiorenzo che è appunto La barca sul fiume ricollegandomi poi a quello che diceva Antioco prima allora quindi accantonato il lavoro dell'armata grigia i due decidono di dedicarsi alla stesura di un film a soggetto faccio anche una piccola parentesi all'epoca i soggetti che andavano per la maggiore anche un po' per rispondere all'osservazione fatta da Simonetta erano praticamente per lo più documentari scientifici ed era questo era dovuto chiaramente ai mezzi che aveva a disposizione l'università e che aveva nello specifico a disposizione quel CineGoof perché poi ci sono comunque delle disparità tra CineGoof a seconda dei finanziamenti che ricevono e dei fondi che riescono a trovare loro stessi attraverso i tesseramenti comunque tra il marzo e il settembre del 40 presumibilmente questo è il periodo di riferimento iniziano a lavorare al soggetto per un film questa volta per un film di finzione e il soggetto per la scrittura del soggetto coinvolgono un altro loro amico un sardo che è Luca Pinna che era un amico di infanzia di Fiorenzo e scrivono appunto questo documentario ambientato nel mondo dei renaioli dell'Arno la sceneggiatura noi abbiamo copia della sceneggiatura scritta con Antonio contenuta appunto nell'archivio Antonio Simon Mossa e in realtà confrontando questa sceneggiatura con la sinossi riportata nel libro curato da Gianni Olla negli anni 90 dove presumo appunto che la sinossi sia stata poi raccontata da Fiorenzo in realtà capiamo che le due sceneggiature non corrispondono perché effettivamente Fiorenzo racconta di aver ripreso il progetto condiviso con Antonio e di averlo riscritto soggetto e sceneggiatura nel periodo di Natale del 40 di averlo scritto in pochissimi giorni ma c'è diciamo la vicenda è piuttosto oscura c'è ancora tutta da indagare e da cercare di capire che cosa sia successo perché noi sappiamo quindi di una prima stesura e abbiamo comunque copia della sceneggiatura contenuta nell'archivio Antonio e Simon Mossa di una scrittura quindi a quattro mani a dicembre 40 Fiorenzo riscrive il soggetto e la sceneggiatura poi però pare che questa sceneggiatura ma non so ancora dirvi se quella scritta a quattro mani con Antonio o quella scritta da Fiorenzo viene mandata dal CineGuff alla segreteria nazionale di Roma dove viene tra l'altro vagliata e approvata quindi viene anche ritenuta degna e viene approvata da una commissione presiduta da Francesco Pasinetti che all'epoca era uno dei più importanti esponenti del cinema italiano nonché uno dei promotori dei CineGuff la sceneggiatura contenuta nell'archivio Simon Mossa effettivamente riporta un timpro gruppo universitario fascisti segreteria ufficio segreteria però non avendo visto concretamente la sceneggiatura scritta da Fiorenzo non so dirvi poi effettivamente quale delle due viene inviata e non lo riescono a capire probabilmente neanche loro ma la cosa curiosa è che a novembre del 41 quindi esattamente un anno dopo la riscrittura della sceneggiatura Antonio e Fiorenzo scoprono che la barca sul fiume è stato realizzato da un altro signore un altro studente che ne ha completamente stravolto il senso e questo studente si chiama appunto Vieri Bigazzi Vieri Bigazzi che Fiorenzo e Antonio nella loro corrispondenza indicano come maestro elementare però e che indicano come una persona abbastanza inesperta in materia però in realtà io ho avuto modo di sfogliare diverse riviste dell'epoca anzi lo sto ancora facendo perché chiaramente sono tantissime e quindi ci vuole molta pazienza ma io ho trovato il nome di Vieri Bigazzi già nel 1937 come partecipante ai prelitoriali di Firenze è classificatosi terzo nel convegno di critica cinematografica e secondo nel concorso di scenografia non classificandosi ai litoriali ma si classificherà ai litoriali del 39 sempre nel concorso di scenografia quindi diciamo che tanto inesperto di materia cinematografica forse non lo era probabilmente non era un esperto cineoperatore come potevano essere Antonio e Fiorenzo che erano sicuramente pronti anche a poter realizzare questo film il film di Bigazzi infatti viene anche presentato in due contesti viene presentato a Udine nell'ambito della mostra nazionale del passo ridotto dove vince un primo premio e poi viene presentato anche a Zagabria nell'ambito del congresso europeo per i film a passo ridotto però nonostante questa spiacevole vicenda in realtà Fiorenzo decide di girare la sua versione della barca sul fiume e lo fa insieme a suo fratello Elio noi almeno io quello che sono riuscita a ricostruire ma ribadisco la vicenda ancora tutta in fase di di studio ho ragione di credere che tra il marzo e il maggio del 1943 abbiano girato la barca sul fiume tra l'altro Fiorenzo negli anni 90 racconta a Gianni Olla di averlo girato dice che una parte delle riprese andranno perdute ma una parte riuscirà a recuperarle nell'immediato dopoguerra e effettivamente nel libro curato da Gianni Olla compaiono alcuni frame alcuni fotogrammi della pellicola penso anche che Fiorenzo e Antonio possano essere stati in qualche modo non dico influenzati probabilmente anche influenzati poi si tratta di due lavori completamente diversi però io penso siccome i due leggevano molte riviste cinematografiche tra cui anche cinema nel 1939 compare sulle pagine di cinema questo articolo per un film su fiume Po firmato da Michelangelo Antonioni si vado a concludere quindi compare questo articolo con la volontà di realizzare un film che racconti appunto l'ambientazione del fiume Po e quindi un po' che si rifà anche all'idea di raccontare l'Arno quindi un altro fiume da parte di Fiorenzo e Antonio mi ha fatto pensare un po' anche questa immagine che ricorda l'immagine vista nel film di Fiorenzo un film che verrà realizzato solamente nel 43 e che però che verrà realizzato nel 43 ma uscirà solamente nel 47 questo ovviamente non lo dico per avanzare dubbi di plagio al contrario assolutamente ma questo per sottolineare quanto l'appartenenza ai cinegoof pur frequentandoli in città completamente diverse perché Antonioni si forma nel cinegoof di Ferrara abbia in realtà condizionato questi giovani e li abbia portati quantomeno a occuparsi a grandi linee delle stesse tematiche e delle stesse ambientazioni avrei tantissime altre cose da dire sull'esperienza però la chiudo qua perché mi rendo conto che il tempo è poco grazie il tempo è tiranno come diceva il sommo poeta qua la scaletta mi indica una relazione di Battista Qualber Manno Mazzetti che mi pare non siano in sala non siano voluti venire ma credo che li sostituirà degnamente Gavino Zirattu presidente del consorzio di Bonifica della Nurra quindi cose pratiche al di là del grazie sì provo a entrare nel nel pratico essendo anche presidente regionale dei consorzi della Sardegna e quindi insomma conoscendo un po' le vicissitudini che questo elemento che solitamente del quale solitamente non se ne parla mai che è l'acqua e gli effetti che provoca soprattutto in maniera positiva dobbiamo dire ma qualche volta anche in maniera negativa anzi purtroppo anche in maniera negativa sappiamo tutti che l'acqua è vitale per la vita del nostro pianeta quindi anche a livello mondiale l'acqua è l'elemento più importante se vogliamo e purtroppo non se ne parla mai io da poco ero a Roma con un convegno di questo tipo facendo parte dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica si diceva proprio questo a livello di vertici di ministero non si parla mai dell'acqua e di quello che crea voi immaginate un paese come l'Africa dove purtroppo è colonizzato da paesi più forti per questioni del cibo l'80% del cibo oggi è irriguo quindi immaginiamo l'importanza che ha l'acqua nella vita dell'umanità e la Cina sta comprando l'Africa lo sappiamo 80 milioni di ettari si è comprato in Africa per sfamare il suo popolo quindi questo dimostra quanta attenzione ci debba essere per questo elemento ovviamente e qui mi riconduco un po' e vi ringrazio anche perché avete portato un tema veramente importante in un altro tema altrettanto importante che però magari sembrerebbe che non ha niente a che vedere con l'acqua invece già da allora Fiorenzo Serra si occupava e parlava dell'acqua nei suoi film nel suo lavoro e questo ovviamente ci fa piacere ne prendiamo atto anche noi con piacere in un mondo dove come ho detto prima di acqua non se ne parla mai ma ritornando un po' a noi e quindi al nostro paese e alla nostra Sardegna dove i cambiamenti climatici purtroppo sempre che avanzano in maniera più inesorabile diciamo gli effetti di quei cambiamenti climatici si vedono e purtroppo molte volte come ho detto prima creano effetti anche devastanti non ultimo in Sardegna qualche settimana fa è deceduta una persona per l'effetto di un'alluvione e queste cose purtroppo stanno succedendo e stanno susseguendo sempre più spesso quindi bisognerebbe parlare del governo dell'acqua una cosa della quale non si parla ma che è molto difficile ovviamente affrontare voi immaginate cosa provoca l'acqua nel rischio idrogeologico del nostro paese un paese a rischio ovviamente dove succedono problemi su problemi quindi non è solo il fatto che l'acqua serve per effetti benefici che dovrebbe essere l'aspetto più importante ma poi va anche governata per quanto riguarda gli aspetti più delicati che sono quelli di cui accennavo prima e sui quali ovviamente non mi voglio fermare più di tanto però qualcosa sulla Sardegna la vorrei dire perché ovviamente penso che sia anche un po' curioso e anche importante allo stesso tempo da sapere fortunatamente nel nostro paese questa volta possiamo se lo posso dire parlare a padroni perché la Sardegna è ormai riconosciuta come la regione delle dighe sembrerebbe un aspetto molte volte che hanno provocato chissà quale impatto ambientale chissà quale altro problema intanto le dighe io le definirei delle opere d'arte sono inserito in un contesto che vi inviterei anche a vedere perché vale la pena di vedere nel paesaggio in cui sono inserite e quello che hanno poi comportato inserendosi quel tipo di paesaggio però le dighe hanno salvato la Sardegna dalla siccità ce lo dobbiamo dire molti di noi si ricorderanno anzi tutti penso che ci ricorderemo negli anni 80 per non andare ancora più indietro che a casa non avevamo l'acqua potabile o ce l'avevamo solo in alcune ore del giorno in alcune ore della notte e la realizzazione di oltre 50 dighe in Sardegna ha consentito di andare avanti di sopperire e di trovarci in una situazione come questa dove i cambiamenti climatici come ho detto prima avanzano in maniera inesorabile e al nord le regioni del nord ci invidiano la situazione che abbiamo noi perché loro stanno vivendo la situazione che noi abbiamo vissuto circa 30 o 40 anni fa e quindi il paradosso molte volte di queste situazioni sono queste e tant'è che lo dico così giusto per un anedoto diciamo da poco c'erano una sessantina di amministratori dell'Emilia Romagna che sono rimasti lo posso dire in termini così banali a bocca aperta della situazione invece che ha la Sardegna che sembrerebbe che in Sardegna siamo ancora all'età della pietra no la Sardegna è la regione che in questo momento è più avanti sotto l'aspetto di aver avuto lungimiranza di aver previsto i cambiamenti climatici forse è stato un caso non lo so però però diciamo che il bisogno è l'ingegno e quindi a suo tempo quando sono venuti fuori questi problemi sono stati affrontati e la realizzazione di questi invasi hanno consentito di venire fuori e di affrontare i cambiamenti climatici nel modo in cui lo stiamo vivendo e quindi senza questo tipo di problemi vi do qualche dato un po' curioso in Sardegna noi possiamo invasare in questo momento un miliardo e novecentocinquanta milioni di metri cubi d'acqua sono una marea una marea di risorse potremmo arrivare a oltre due miliardi due miliardi e trecento milioni se facessimo dei lavori sulle dighe che consentirebbero di sollevare un po' i livelli siamo orgogliosi anche di avere la diga più grande d'Italia una fra i più grandi d'Europa che è la diga cantoniera la famosa diga cantoniera che la realizzazione di quella diga voi immaginate che quando la riempiono sommerge la diga piccola che era stappata precedentemente negli anni adesso non mi ricordo negli anni sessanta forse anche prima negli anni venti addirittura quindi quella diga è una diga che al massimo del suo invaso contiene novecento milioni di metri cubi immaginatevi di cui stiamo parlando in questo momento la stanno invasando per quattrocentocinquanta milioni e quindi consente comunque sia attraverso un altro intervento importante che è stato fatto in Sardegna che è quella poi dell'interconnessione fra le dighe perché purtroppo i cambiamenti climatici oggi hanno portato a localizzare le precipitazioni o comunque sia il clima in maniera appunto più territoriale più locale e questo molte volte fa sì che in qualche area della Sardegna le dighe si riempiono e in qualche altra no e quindi l'interconnessione fra i bacini diciamo che ha consentito questo tipo di superare questo tipo di problema quindi diciamo che le dighe che l'acqua è un elemento fondamentale per la vita umana naturalmente lo sappiamo perché interviene non solo per le cose di cui stavamo parlando ma interviene anche sotto l'aspetto ambientale sotto l'aspetto degli ecosistemi e qui faccio un altro banalissimo esempio dove si parla molto delle acque reflui oggi le acque reflui sono acque sicure che comunque sia vanno utilizzate con attenzione perché comunque sia sappiamo in che maniera devono essere trattate prima di poterle utilizzare un esempio che posso portare qui alla vostra attenzione è quello di Alghero Alghero lo sapete benissimo che il depuratore di San Marco sverserebbe le acque nel Calix andrebbe a finire pure nel Calix dal quale poi sembrerebbe che venga pure questa famosa marea gialla e quindi con tutti i problemi di carattere ambientale che comporta ecco quelle acque noi con dei lavori che abbiamo fatto degli intervitti che abbiamo fatto le stiamo riutilizzando in agricoltura e quindi le stiamo togliendo ad intervenire in quel tipo di sistema di ecosistema che magari viene in questo modo anche salvaguardato poi lo dico sempre non si sa ancora se quelle acque lì sono quelle che provocano la marea gialla oppure no ci sarebbe da discutere da prima discussione non la voglio aprire qua perché non mi sembra il caso però era solo per fare un esempio per dimostrare che le acque in un modo o nell'altro comunque sono sempre al centro della vita umana di tutti noi dovremmo darci più attenzione dovremmo darci più attenzione in tutti i sensi dai dai più grandi dai capi di stato dove oggi tutti si posso dirlo si sacquano la bocca dicendo che si deve fare questo questo e quest'altro e poi infatti solitamente non seguono quello che invece si dovrebbe fare ma riporto un po' l'attenzione anche a noi ai comuni cittadini che la mattina quando apriamo il rubinetto la cosa che dovremmo fare è pensare un attimino che ci sono molti ma molte popolazioni che oggi non hanno l'acqua a casa non voglio ritornare su alcuni paesi dell'Africa o dell'America Latina dove purtroppo non hanno l'acqua come ce l'abbiamo noi non hanno manco l'acqua per bere in certi casi quindi questo ci deve riportare un po' all'attenzione di quanto sia importante del valore che dobbiamo attribuire a questo elemento fondamentale per la vita del paese e appunto per questo mi voglio ricondurre a quello che diceva già da allora qualcuno che forse aveva la testa e la lungimiranza più di come non ce l'abbiamo avuta noi che era Fiorenzo Serra dove il suo lavoro lo collegava già da allora all'acqua e quindi quello che di cui state parlando oggi e aver accostato il problema dell'acqua al lavoro del cinema è veramente una cosa che personalmente mi inorgoglisce ma credo che debba far riflettere un po' tutti noi per le cose che sappiamo per le cose che ci stiamo dicendo oggi e per quanto l'acqua sia importante nella vita dell'universo del nostro pianeta grazie l'ultimo intervento quello che chiuderà questo convegno ha come titolo il degrado delle risorse idriche come indicatore dei processi di desertificazione esperienze di c'è un acronimo che poi mi spiegherete NRD UNIS nell'ambito del Mediterraneo i professori Quirico Micheli e Alberto Carletti del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari prego prima una spiegazione della sigla NRD ringrazio 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 tutti ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione per aver voluto anche a nome dei collaboratori del nucleo di ricerca sulla desertificazione ecco soddisfatto che risponde diciamo alle quelle che sono i dettami le linee della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione e quindi è stato fondato già da 30 anni fa formalmente 21 però in realtà è attivo già da almeno 30 anni nell'università per promuovere progetti di ricerca di cooperazione internazionale di capacity building e di networking anche nell'ambito della desertificazione noi crediamo fortemente e questa è una caratteristica dell'NRD che dalla contaminazione reciproca infatti mi fa molto piacere partecipare a questo tipo di eventi in cui ci sono competenze trasversali che si incrociano su un tema quello dell'acqua che è di per sé trasversale per antonomasia insomma in qualche modo abbiamo anzi colgo l'occasione per lanciare ai colleghi e anche al dottor Siratto e a tutti voi insomma l'idea un'idea che abbiamo da tempo cioè quella di di attivare un progetto proprio didattico anche sul tema dell'acqua che sia trasversale che possa coinvolgere appunto colleghi di diverse discipline l'NRD in estrema sintesi è costituito da un gruppo di docenti ricercatori dell'università di Sassari che non appartengono soltanto al dipartimento di agraria a cui appartengo personalmente ma anche a diversi altri dipartimenti per cui abbiamo convogliato competenze di tipo appunto sociologico giuridico economico e sociale e questo per progetti di cooperazione è un aspetto fondamentale come diceva la dottoressa Serra prima e anche poi come è venuto fuori nella relazione di Sicilia a Pennacini l'approccio in un qualunque tipo di intervento di cooperazione deve essere condiviso deve essere costruito insieme ci si deve proprio avvicinare in punta di piedi in qualsiasi contesto in cui si voglia operare altrimenti qualunque intervento è destinato a fallire non sono interventi neutrali anche quelli che apparentemente possono sembrare interventi benefici la costruzione di un pozzo per esempio abbiamo esperienze numerose in cui la costruzione di un pozzo a beneficio di una comunità può creare conflitti con la comunità vicina e quindi in questo senso bisogna stare molto attenti quindi sentirsi ospiti sentirsi in punta di piedi quindi affrontiamo come NRD diversi dicevo tipi di attività dalla ricerca alla cooperazione alla divulgazione come terza missione al networking e abbiamo una funzione come segreteria operativa di diversi network internazionali come DesertNet International o il Global Network of Dryland Research Institute che è una network di istituzioni internazionali che si occupano di degradazione dei suoli e desertificazione la rete diciamo di progetti in corso o nei recenti anni passati insomma è molto ampia gestiamo diversi progetti di ricerca adesso in particolare molti si riferiscono all'Horizon prima Horizon 2020 adesso Horizon Europe e siamo molto impegnati proprio in questi giorni per la preparazione e la predisposizione di nuovi progetti con scadenza anche abbastanza breve quindi è una situazione continua di stress devo dire per tutti noi i collaboratori più giovani in particolare perché questi sono alcuni dei progetti diciamo che abbiamo gestito dei settori degli ambiti in cui abbiamo gestito progetti di cooperazione allo sviluppo come vedete in diversi paesi sia nel nord Africa che è nell'Africa subsahariana in America Latina e in Asia e anche i progetti di ricerca perché questo è molto importante cioè di solito si pensa che la cooperazione internazionale allo sviluppo sia in qualche modo avulsa dalle attività di ricerca soprattutto per un dipartimento universitario invece è proprio il contrario sono sempre occasioni importantissime di ricerca abbiamo molti giovani che stanno facendo come anche qua è presente una di questi una dottoranda che stanno facendo il loro dottorato di ricerca la tesi di laurea magistrale nell'ambito dei progetti di cooperazione che svolgiamo qui c'è il sito io lascio subito la parola ad Alberto Carletti che invece vi parlerà in particolare di alcuni dei progetti più importanti nell'ambito dell'acqua del tema dell'acqua grazie si buongiorno a tutti io sono Alberto Carletti sono un idrogeologo innanzitutto e ricercatore del dipartimento di agraria del nucleo ricerca e di azione dell'università di Sassari e diciamo da molti anni collaboro con diciamo tutti i progetti che hanno a che fare con le risorse idriche sia progetti di ricerca che progetti di cooperazione internazionale quindi in questa presentazione vi illustrerò brevemente alcune alcune esperienze di NRD nell'ambito del Mediterraneo incentrate appunto sul degrado delle risorse idriche che come appunto spiegherò fra poco rappresenta un indicatore di processi di desertificazione vediamo perché innanzitutto partirei dalla definizione ufficiale di desertificazione che è quella che è stata adottata dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta città della desertificazione che appunto definisce la desertificazione come il degrado delle terre nelle zone aride semiaride e secco subumide attribuibile a diverse case ma principalmente alle variazioni climatiche quindi all'impatto dei cambiamenti climatici e all'attività antropiche da sottolineare che qui degrado delle terre che è una traduzione in italiano di land degradation quindi non è semplicemente il degrado del suolo ma va inteso nell'accezione più generale proprio del degrado del sistema bioproduttivo del territorio per cui include tutte le risorse naturali di un territorio tenendo conto anche di tutti gli aspetti socio-economici quindi vediamo qual è la relazione fra risorse idriche e desertificazione innanzitutto le risorse idriche superficiali e sotterranee appunto rappresentano un fattore essenziale per la conservazione e lo sviluppo degli ambienti naturali e per la crescita socio-economica di un territorio quindi in tal senso il degrado delle risorse idriche intendo sia come degrado quantitativo per esempio dovuto al sovrasfruttamento degli acquiferi oppure degrado qualitativo dovuto a inquinamento di tipo puntuale inquinamento di tipo diffuso proprio perché influenzano negativamente le condizioni di sviluppo di ogni forma di vita e di organizzazione antropica appunto rappresentano un fondamentale indicatore di processi di desertificazione proprio rifacendoci alla definizione che ho dato poc'anzi i fattori inescanti possono essere appunto fattori naturali come le variazioni climatiche quindi impatto di cambiamenti climatici oppure semplicemente le caratteristiche proprio geologiche idrogeologiche pedologiche morfologiche di un territorio pensiamo all'inquinamento da fluoro nei paesi della Ritz Valley dell'Africa orientale dove appunto il fluoro è presente per diciamo le caratteristiche geologiche e idrogeochimiche dell'aria oppure i fattori antropici e qua gioca un peso fondamentale la gestione la governance dell'acqua perché la cattiva gestione dell'acqua e una mancata pianificazione territoriale porta appunto a fenomeni di degrado sia quantitativo che qualitativo delle risorse idriche il dottor Ziratto diceva che appunto in Sardegna abbiamo più di 50 dighe che approvvigionano l'isola per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico potabile idrico e appunto questo diciamo ci rende un punto di orgoglio a livello nazionale però io vorrei anche aggiungere che molto spesso abbiamo visto che durante i primi siccittosi le risorse idriche superficiali non sono sufficienti a soddisfare la domanda soprattutto mi riferisco all'uso idrico e quindi si va ad utilizzare le risorse idriche sotterranee che diventano una risorsa strategica però tutti sappiamo che le risorse idriche sotterranee praticamente non sono gestite in Sardegna ma anche diciamo anche a livello nazionale e questo porta a soprattutto durante fenomeni di questo tipo per esempio inquinamento dovuto all'intrusione dell'acqua marina negli acquiferi costieri che poi lasciano degli impatti a lungo termine quindi l'aspetto della governance ma non solo in termini di acque superficiali di ighe ma anche di acque sotterranee è appunto un fattore centrale di sviluppo anche di una regione come la Sardegna detto questo io vorrei fare una breve carrellata di alcune delle esperienze di progetti in Rd di studi in Rd suddividendoli in due categorie diciamo per esempio uno studi sul degrado qualitativo delle risorse idriche in particolare sotterranee e qui ho portato il caso studio emblematico di Arborea che per noi ormai da più di dieci anni rappresenta un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove in Rd con un approccio interdisciplinare quindi non soltanto geologico idrogeologico idrogeochimico ma anche agronomico e anche sociale appunto studia la problematica dell'inquinamento da nitrati di Arborea come sapete Arborea era un'area paludosa che è stata bonificata durante il ventennio fascista per farla diventare un'area a vocazione agricola e dove i coloni provenienti dal nord Italia hanno dato luogo a un sistema a una comunità molto coesa che oggi ha portato alla creazione di un distretto agrozootecnico su una superficie abbastanza limitata di 6.000 ettari dove ci sono circa 200 aziende consociate in cooperativa sia per la produzione dei prodotti latero-casiari che la cooperativa produttori Arborea che appunto gestiscono circa 30.000 capi di bestiame su una superficie di 6.000 ettari scusate e questa realtà praticamente rappresenta un fiore all'occhiello dell'economia sarda ma che compete sia a livello nazionale ma anche a livello europeo per quanto riguarda la produzione lattiero-casiale chiaramente questi livelli di produzione hanno implicato negli anni una diciamo una produzione agricola e zootecnica molto intensiva che nel corso dei decenni purtroppo ha causato un inquinamento da nitrati dell'acqua sotterranea e dell'acquifero sabbioso che è particolarmente vulnerabile per le sue caratteristiche idrogeologiche ad Arborea dovuto soprattutto all'apporto di effluenti animali quindi liquame lettame come fertilizzanti organici per mantenere alto il livello di sostanza organica nel suolo dato che i suoli sono sabbiosi più del 95% e questo ha portato nel 2005 all'identificazione di Arborea come zona vulnerabile da nitrati essensi della direttiva comunitaria appunto la direttiva nitrati 91 676 con una serie di imposizioni e di restrizioni per le pratiche agricole delle aziende di Arborea con ripercussioni dal punto di vista dei costi di produzione e della gestione delle aziende allora in questo contesto noi siamo andati a intervenire innanzitutto io mi focalizzo sugli aspetti idrogeologici quindi delle acque sotterranei abbiamo innanzitutto ricostruito il modello idrogeologico della piana non solo del distretto di Arborea ma di tutta la piana tra il mare e Monte Arci identificando appunto quelli che sono gli acquiferi principali e in particolare diciamo quello che vedete qua è l'acquifero sabbioso che affiora proprio nella zona agricola di Arborea e che è quello appunto soggetto ai fenomeni di inquinamento un altro aspetto importante è che l'acquifero sabbioso è nella parte meridione della piana in comunicazione di retta idraulica con l'acquifero alluvionale che troviamo in tutta la restante parte della regione mentre in una certa parte della pianura i due acquiferi sono separati quindi isolati da un livello di argile e questo ha delle ripercussioni come vediamo sia per quanto riguarda i flussi sotterrani che soprattutto la distribuzione delle concentrazioni di nitrate per quanto riguarda i flussi vediamo che qua si configura un'alimentazione laterale da parte dell'acquifero alluvionale verso l'acquifero delle sabbie e questo ha delle ripercussioni sulla distribuzione delle concentrazioni di nitrate quelle che vedete in verde sono le concentrazioni più basse del limite previsto dalla legge che è 50 mg litro di nitrati nelle acque mentre i colori dal arancione al rosso al viola sono le concentrazioni sempre crescenti che arrivano fino a superare di 5 volte la soglia il colore viola quindi vi faccio notare che nella parte meridionale appunto abbiamo una distribuzione di concentrazioni elevate abbastanza distribuita perché c'è un effetto di sommatoria dell'inquinamento diretto che avviene per l'uso del suolo che si fa nell'area di arborea più l'inquinamento che proviene dall'altro acquifero che alimenta l'acquifero delle sabbie quindi abbiamo studiato anche l'origine dei nitrati e i processi naturali di attenuazione con il processo di nitrificazione attraverso gli isotopi e siamo arrivati alla conclusione che appunto esistono processi di attenuazione naturale dei nitrati quindi una capacità di autodepulazione dell'acquifero e abbiamo certificato praticamente che la fonte di contaminazione dei nitrati proviene dai fertilizzanti organici a questa fase di studio è seguita una fase di progettazione e di test di opzioni di mitigazione della problematica che vedremo più avanti un'altra esperienza invece è quella del progetto WADISMAR che è un progetto finanziato dal programma SWIM Sustainable Water Integrated Management condotto dal 2011 al 2016 in Tunisia e in Algeria qua invece entriamo nel campo del degrado quantitativo delle risorse idriche soprattutto per quanto riguarda il caso della Tunisia sud orientale quindi nella regione di Medellin siamo vicini all'isola di Gerba e precisamente l'area dell'Undessar che è un'area desertica come potete vedere da queste immagini dove le precipitazioni hanno e non superano i 200 mm all'anno e soprattutto sono molto irregolari e concentrate in periodi molto brevi che danno luogo quando si verifica una delle fondamentalmente inondazioni che quindi grosse masse d'acqua vengono convogliate lungo gli uadi che sono dei fiumi praticamente temporanei e fiumi quasi per tutto l'anno in secca quest'area che è utilizzata poi dall'utilizzo cospicuo di acque sotterranee che rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento sia per usi potabili e rigui e da questa zona vengono poi alimentati tutti i complessi turistici dell'isola di Gerba quindi c'è un forte consumo per uso potabile che ha portato a un sovrasfruttamento dell'acquifero e dell'acqua sotterranee e quindi una depressione dalla piezometrica quindi un degrado quantitativo della risorsa esponendo quest'area al rischio dei cambiamenti climatici è legato ai processi di desertificazione quella che vedete qua è un'immagine di un wadi che è nel periodo nel periodo in secca allora come la Tunisia ha cercato di porre il rimedio a queste situazioni innanzitutto con dei programmi diciamo governativi di recupero dei sistemi tradizionali di water harvesting che vedete in queste immagini sono i gessure tabià della zona meridiana della Tunisia cioè fondamentalmente nelle zone a forte pendenza si creano dei terrazzamenti con degli sbarramenti per cercare di trattenere le acque di scorrimento superficiale e quindi mantenere l'acqua nel suolo e favorire l'agricoltura è lo stesso principio però applicato in pianura oppure realizzazione di sbarramenti di gabbionate appunto in quegli uadi che dicevo prima per cercare di trattenere quelle acque di deflusso nei periodi nei momenti di piena e favorirne l'infiltrazione allora a partire da questo contesto noi siamo andati a intervenire cercando di progettare e poi realizzare dei sistemi di ricarica controllata degli acquiferi i cosiddetti Mars System cioè praticamente nel mezzo dell'Owadi a monte della gabbionata abbiamo realizzato dei pozzi di ricarica circordati da delle abbiamo chiamate camere di ricarica sostanzialmente delle trincee profonde 4-5 metri scusate per cercare di favorire l'infiltrazione dell'acqua qua vedete la sezione dove abbiamo il pozzo di ricarica cioè attraverso il quale l'acqua superficiale vengono iniettate direttamente nell'acquifero sottostante e la camera di ricarica circostante che favorisce questa infiltrazione però allo stesso tempo abbiamo cercato di depurare in qualche modo queste acque proprio per migliorare la qualità attraverso un sistema di trattamento passivo che vi faccio vedere qua c'è una sostanza sostanzialmente una miscela di materiale organico in particolare foglie di palma mescolate con materiali inerte sabbia e ghiaia questo per praticamente promuovere quei processi di denetrificazione per l'azione dei batteri presenti nel materiale organico e poi tutta una serie di processi di decontaminazione da contaminanti sia organici che inorganici queste sono delle foto dove vedete appunto la realizzazione del sistema di trattamento del posto di ricarica con la camera di ricarica in mezzo al Wadi abbiamo progettato 10 di questi sistemi in diversi Wadi della regione e abbiamo stimato che potenzialmente potrebbero portare a una ricarica di circa 1,2 milioni di metri cubi un'altra esperienza che è attualmente in corso sempre in ambito mediterraneo è il progetto Menawara di cui siamo coordinatori finanziato dal programma ENI-CBC-MED che questa volta è particolarmente incentrato proprio perché è una richiesta del bando e del programma ENI sulle acque non convenzionali cioè tutte quelle acque che come diceva il dottor Zirato normalmente non vengono utilizzate ma stanno sempre di più diventando delle risorse strategiche come le acque rifletrattate piuttosto che le acque di drenaggio o in altri paesi le acque di dessalinizzazione e il nostro progetto è focalizzato proprio al riutilizzo di queste acque non convenzionali in agricoltura che normalmente anche negli altri paesi del Mediterraneo consuma una media del 70% di tutto l'approvvigionamento idrico quindi creando una forte pressione sulle acque convenzionali cioè acque sotterranee e acque superficiali quindi in un contesto di cambiamenti climatici di scarsità idrica crescente di aumento della popolazione soprattutto nei paesi della spandazione del Mediterraneo quindi queste acque non convenzionali diventano particolarmente strategiche l'obiettivo generale del progetto è proprio quello di contribuire ad aumentare la disponibilità delle risorse idriche per scopo irrigo attraverso l'utilizzo delle acque non convenzionali e migliorando innanzitutto l'efficienza d'uso delle acque non convenzionali quindi in irrigazione attraverso sistemi più efficienti migliorare la qualità di queste acque per il loro riutilizzo in agricoltura e poi tutta un'azione sulla governance e sulla capacity building delle popolazioni interessate le soluzioni proposte in questo caso utilizzano il nostro progetto acque riflettratate acque di drenaggio mediante tecniche innovative che comunque prevedono il coinvolgimento di tutti gli stakeholder durante tutte le fasi del progetto quindi consistono nella migliorare l'efficienza di impianti di depurazione esistenti con degli interventi diciamo abbastanza piccoli migliorare la qualità del refluo in uscita con soprattutto trattamenti terziari sempre degli impianti di depurazione poi utilizzare tecniche di irrigazione più efficienti come dei mini sprinkler rinnovativi per l'irrigazione a pioggia oppure sistemi di irrigazione sotterranea superficiale drip irrigation e poi sistemi di ricarica controllata mediante la tecnica AFI che descriverò successivamente allora le aree di intervento sono 4 aree in Tunisia 2 nella zona di Tunisi 2 nella penisola Cabon poi in Palestina in Giordania in Spagna mentre ad Arborea prevediamo questi sono tutti interventi sugli impianti di depurazione per migliorare la qualità dei refri e per utilizzarle in agricoltura invece ad Arborea andiamo a realizzare un impianto di ricarica controllata un impianto pilota su una superficie di 4000 metri utilizzando le acque di drenaggio dei canali della bonifica per fare che cosa? Per cercare attraverso la ricarica controllata di mitigare la contaminazione da nitrate attraverso processi di diluizione e questa appunto la vogliamo testare come buona pratica per mitigare il problema della contaminazione da nitrate delle acque straterranee e vedere se poi se si rivela una buona pratica poi testarla in altre aree in contesti idrogeologici simili non solo in Sardegna ma nel resto del Mediterraneo questa è la tecnica affi che consiste praticamente a realizzare trincee parallele di ricarica intervallate da sistemi forestali perché le radici delle piante favoriscono quei processi di denetrificazione che dicevo prima questo è il nostro progetto questa appunto è l'area forestale e questa è la condotta che dall'idrovola di Luri pompa le acque di drenaggio direttamente al nostro sistema che vengono depurate attraverso un sistema di trattamento passivo installato direttamente nel trincee tipo quello che ho descritto prima questi appunto sono gli schemi questa è la simulazione dell'area forestale che è in fase di realizzazione allora detto questo qual è il fil rouge di tutte queste esperienze il filo conduttore è innanzitutto che utilizziamo sempre un approccio di tipo interdisciplinare perché per risolvere problemi complessi e quindi bisogna trovare soluzioni complesse o complesso di soluzioni e quindi è necessario un approccio interdisciplinare che combiniamo sempre ricerca e cooperazione per trovare delle soluzioni che siano sostenibili pulite ed ecocompattibili quindi per ridurre il degrado quali quantità attiva delle risorse idriche e soprattutto il coinvolgimento degli stakeholder dalle fasi iniziali del progetto prima di chiudere vorrei dire che a proposito dell'importanza della gestione delle acque e poi in particolare delle acque non convenzionali recentemente abbiamo organizzato come progetto Menawara un side event all'Arab Water Forum che si è tenuta a Dubai dal 21 al 23 settembre e quindi queste tematiche portate avanti dal progetto Menawara sulle acque non convenzionali verranno poi riportate al Global Water Forum che si terrà in Senegal a marzo dell'anno prossimo quindi la tematica è molto sentita non solo a livello nazionale regionale nazionale ma anche a livello internazionale grazie ringrazio ringrazio professori migueli e carletti per la significativa è veramente coinvolgente l'azione ci avviamo alla conclusione ma non sarò io a darvi i saluti conclusivi ma bensì la professora Panizza direttrice del dipartimento di storia scienza dell'uomo della formazione che ci ha appena raggiunti grazie buongiorno a tutti mi scuso moltissimo per non essere potuta arrivare prima ma non ce l'ho fatta non ho potuto venire prima non sono potuta venire prima e vi naturalmente vi do in ritardo il benvenuto a questa molto molto in ritardo a questo importante convegno è incontro devo dire che l'associazione umanitaria unitamente ai nostri collaboratori i nostri ragazzi che lavorano nel laboratorio di antropologia visuale che sono ospitati in dipartimento hanno sempre delle iniziative molto molto importanti molto interessanti anche il il tema di quest'anno sull'acqua e mondi d'acqua è veramente un un tema molto attuale considerato considerato il clima le questioni del clima considerate le questioni dei conflitti quindi è veramente importante che abbiano organizzato questa manifestazione con questa tematica quindi io li voglio ringraziare davvero la collaborazione tra il dipartimento e l'umanitaria è molto proficua è sempre attiva e li ringrazio ancora della così di tutto il lavoro che fanno e ringrazio voi di essere di partecipare a questa manifestazione tutti i relatori naturalmente voi che siete presenti e vi do il benvenuto insomma grazie grazie a tutti un'ultima cosa domani sempre alla camera di commercio in questa sala ci sarà l'evento conclusivo la premiazione del Fiorenzo Serra Film Festival alle ore 17.30 grazie a tutti arrivederci grazie grazie a tutti